Buongiorno, sono molto contenta di questo incontro che noi facciamo in questo modo perché ci permette di mettere intorno a un tavolo persone che stanno lontane e di poter contare su un appuntamento che a questo punto è alla seconda edizione e possiamo in qualche modo definire un appuntamento annuale che era il nostro desiderio quando l'anno scorso abbiamo lanciato questa progettualità su una serie di giornate di studio dal titolo Grafie del Corpo che volevano proprio porsi come degli appuntamenti che di anno in anno potessero creare un punto di discussione tra artisti, studiosi, archivisti varie figure che si occupano del problema del rapporto tra fotografia e scena da traiettorie talvolta molto diverse e il cui dialogo come abbiamo verificato l'anno scorso è secondo, costruttivo, interessante, trasversale per natura nel senso che è già dall'anno scorso che noi abbiamo messo insieme sia chi la fotografia e la performance la praticano sia coloro che la studiano, che la osservano, che la studiano talvolta attraverso i documenti iconografici e fotografici e che quindi hanno un rapporto con l'immagine diciamo basato su altre metodologie su altri criteri, su altre strategie. Quindi in sintesi Grafie del Corpo, seconda edizione noi siamo molto contenti anche di poter annunciare con questa edizione la pubblicazione degli atti del convegno dell'anno scorso che è stato uno sforzo non solo di creazione di un libro ma anche di attivazione di un progetto editoriale. Officine Fotografiche con questa pubblicazione di atti ha inaugurato una casa editrice dentro alla quale c'è una collana che si chiama Grafie del Corpo che noi curiamo e che potrà essere il contenitore, diciamo, la destinazione, il punto di raccolta di progetti di ricerca sia scientifica che artistica su questa tematica. Quindi diciamo che è un doppio saluto in questa mattina che apre il cantiere, apre la giornata di lavoro della seconda edizione e diciamo raccoglie in qualche modo gli esiti di quella passata. Allora nell'edizione passata, io dico solo due parole per diciamo raccontare un po' quello che è stato questo percorso qui, l'edizione passata ci ha viste impegnate in una ideazione di convegno che aveva allo stesso tempo delle relazioni, diciamo più convenzionali dal punto di vista delle giornate di studio in cui studiosi, critici, relatori di diverse università italiane e europee portavano il loro contributo, però avevamo costruito anche dei dialoghi e nello specifico l'anno scorso ce n'erano due. C'era un dialogo tra uno studioso e un fotografo, lo studioso era Matteo Casari, un esperto di teatri asiatici e il fotografo era Fabio Massimo Fioramanti che da moltissimi anni fotografa il No in Giappone e che aveva dedicato un progetto recente al Butò che aveva incontrato in un piccolo teatro di Chioto. È stato molto interessante sentirli dialogare perché si confrontavano su un tema che era un tema caro a entrambi, il teatro giapponese, di cui sono entrambi esperti da due prospettive completamente diverse. L'altro dialogo era quello tra me e Alessandra Cristiani che collaboriamo da moltissimi anni in diverse forme, tra cui tutta la progettualità più recente di una creazione di progetti fotografici che ruotano intorno ad alcuni suoi assoli, ad alcuni suoi lavori di danza. Questi due dialoghi ci hanno fatto pensare che la formula del confronto era forse la cosa da approfondire di più, quella più inconsueta del dialogo uno a uno tra intellettuali, artisti e soprattutto quella che c'era sembrata più aperta, più ricca di possibilità ancora tutte da esplorare. Quindi ne abbiamo fatto lo statura dell'edizione di quest'anno che in gran parte si basa su dei dialoghi. Sono dialoghi tra persone che si conoscono, si frequentano e si confrontano già da tanto tempo, quindi non è un gioco di coppie diciamo casuale, è un gioco di associazioni piuttosto mirato e io ringrazio moltissimo coloro che si sono resi disponibili a questa formula. È una formula scivolosa, non sempre semplice, di un confronto peraltro non in presenza, quindi privati della nostra comunicazione più fisica legata alla presenza e che ci costringe un po' a una versione diciamo più basata soltanto sulle parole. Però invece tutti coloro che hanno accettato hanno condiviso con noi dei materiali, delle immagini, dei video, dei frammenti e questo è un altro aspetto interessante questa possibilità di condividere frammenti del lavoro, sia del lavoro scientifico che del lavoro di ricerca artistica. Ve li presenterò man mano, quindi non c'è bisogno che io faccia una panoramica già da adesso, però insomma li ringrazio in modo non formale diciamo già da subito per aver accettato questa formula, questa modalità di confronto e di relazione. A inframmezzare i dialoghi ci saranno invece una serie di relazioni, su questo dico due parole perché invece su questo il criterio è basato su una grande diciamo organicità, le quattro relazioni sono le quattro relazioni di noi quattro curatrici che siamo impegnate da diversi anni in un progetto di ricerca che è sia teorico che pratico sulla fotografia di Danza. Il gruppo è formato da diciamo persone che si sono formate appunto sia sul versante pratico per lo più qui a officine fotografiche e nello specifico in tecniche analogiche sostanzialmente e da parte degli studi una formazione che ci ha vista invece al Dams di Roma 3 come docenti, come studentesse, come studiose e come dottorande. Quindi dei piccoli nuclei di indagine che si sono uniti e hanno cominciato al loro interno a diciamo far dialogare le esperienze pratiche con le esperienze più teoriche. Tra le attività del nostro gruppo, ne parleremo naturalmente nel corso della giornata, ci sono soprattutto due aspetti. Un aspetto è quello degli studi, ciascuna di noi sta approfondendo dei casi studio sui rapporti tra fotografia e Danza. Il secondo aspetto però è questo progetto, questo esercizio di metodo che noi stiamo praticando da diversi anni e che chiamiamo l'Atlante della fotografia di Danza. È un progetto che chiaramente ci mette a un faccia a faccia, in un tu per tu con le immagini del passato, del passato più remoto, del passato più recente e a volte anche del presente e che si basa su una serie di criteri associativi che ci spostano di volta in volta su traiettorie di studio diverse. Noi oggi rendiamo conto degli esiti di questo progetto, che è un progetto avviato nel 2018, quindi che noi pratichiamo da diversi anni, con un gruppo che ha man mano cambiato la sua configurazione ma che tiene il suo nucleo nelle quattro curatrici del convegno e di cui noi presenteremo le due facce. Presenteremo in una serie di frammenti video i processi di costruzione dei pannelli del nostro Atlante della fotografia di Danza e poi parallelamente presenteremo ciascuna una relazione su dei casi studio che diciamo sono come dei prelievi da questi pannelli. Voi una bozza la vedete dietro di noi, noi abbiamo anche un pannello diciamo analogico su cui lavoriamo materialmente spillando immagini, cambiando le immagini e via via riconfigurando questo panorama visivo in un certo senso, continuiamo a dargli forme diverse. È come se le nostre relazioni fossero diciamo il gesto di staccare una immagine da questo pannello e studiarla, osservarla, usandola come ci piace dire, come una membrana tra due mondi. Il mondo del fotografo e della cultura visiva che ha prodotto quell'immagine e il mondo del performer che ha lasciato lì dentro una traccia. Quindi questa sarà la struttura, dialoghi, video sui processi di formazione dei nostri pannelli e relazioni a cura di noi quattro. L'ultimissima cosa prima di aprire diciamo i lavori in modo ufficiale è un accenno su questo titolo e su quello che succederà nell'ultima parte del convegno per chi ci seguirà tutto il giorno. Grafie del corpo è un progetto che in realtà include molti aspetti, non solo questa attività di giornate di studio. È anche il titolo di un laboratorio pratico che noi svolgiamo con un gruppo di fotografi, di partecipanti a questa progettualità col quale nel corso degli anni abbiamo intrecciato una serie di pratiche sia di studio che di esercizio fotografico allenandoci alla fotografia di performance con la collaborazione di Alessandra Cristiani che ha fatto parte del progetto da quando questo progetto è diventato un progetto pratico e si è svolto alla lupa a Tuscania, uno spazio di lavoro che condividiamo. Ecco, grafie del corpo è anche questa cosa qui, è un convegno, è un gruppo di studio, è anche un laboratorio pratico. Nell'ultima parte del convegno una di noi quattro curatrici dà racconto di questo versante perché impegnata come fotografa dentro al progetto e come dire, non voglio dire a dimostrazione ma proprio voglio dire in modo organico a chiudere questo dialogo che è anche un dialogo macroscopico che guida il nostro progetto di ricerca tra gli aspetti tecnici, pratici, concreti del fare artistico sia performativo che fotografico e gli aspetti di studio, di ricerca, di indagine, di lettura critica, di analisi, di ricerca storica, di lavoro d'archivio e il tentativo di far dialogare queste due attitudini oltre che queste due attività. Allora, detto questo, presentato per sommi capi quello che sarà diciamo il percorso lunghissimo di questa giornata, io introduco il primo dialogo che è un dialogo d'apertura sotto molti aspetti, nel senso che è il dialogo tra Paola Bianchi e Raimondo Guarino che insomma sono due figure che io osservo, frequento e conosco e a cui insomma tenevo moltissimo che fossero loro in qualche modo ad aprire questo cantiere perché Paola Bianchi è una danzatrice, una performer, coreografa che negli ultimi anni o almeno negli ultimi anni io ne ho un'esperienza di osservatrice più da vicino, sta affrontando un percorso in cui l'immagine fotografica ha un ruolo molto specifico, molto preciso e agisce sul corpo in un modo molto preciso ed è per noi un esempio straordinario di come il dialogo tra corpo e immagine sia un dialogo diciamo che ha due direzioni, di quanto il corpo agisce nell'immagine quando viene raffigurato ma di quanto l'immagine possa agire sul corpo del performer che decide di utilizzarla per il suo processo creativo e di costruzione coreografica e corporea. Raimondo Guarino è uno studioso di storia del teatro ed è anche uno studioso della cultura materiale del teatro ed è anche uno straordinario osservatore del teatro del presente, è tra gli studiosi diciamo più vicino alle pratiche del teatro contemporaneo, quindi è un osservatore speciale capace di abitare diciamo diversi tempi della storia del teatro con la sua attività, col suo studio e con la sua conoscenza. Io senza fare presentazioni troppo istituzionali lascerei a loro la parola ringraziandoli della loro disponibilità e aprendo diciamo con il loro confronto questa giornata di dialogo sul corpo e l'immagine. Allora secondo il copione che ci siamo dati faccio una breve introduzione, l'intervento di Paola Bianchi sul suo progetto vi farà capire l'essenziale, cioè quanto tutte queste mosse, queste strategie di prelievo, composizione, dissoluzione, ricostruzione, sono vitali, sono sostanziali nella creazione e quindi in questi dialoghi proprio non è il caso di fare giochi di ruolo perché esperienze e progetti come quello di Paola Bianchi contengono lo spazio del pensiero, contengono le direzioni del pensiero, quindi io poi successivamente, caso mai, farò, se richieste, delle integrazioni narrative a quello che esporrà Paola sul fatto che poi la ferrea coerenza del metodo che lei ha elaborato ha determinato efficacemente una pratica analitica che è stata negli spazi e nei luoghi della danza, della performance, della rappresentazione. Non credo che questo accada molto frequentemente, non credo, cioè che ci sia questa forza di pensiero, che ci sia una forza di pensiero coniugata con una efficacia realizzativa. All'insegna di questa premessa parto dicendo che nella breve estate nel 2020 abbiamo vissuto tutti, dato il contesto pandemico, una straordinaria fioritura di esercizi sull'assenza che si ribaltavano poi, che si ribaltavano fisiologicamente nelle nostre esperienze quotidiane di osservatori, di curatori, di testimoni e di artisti richiamati a dichiarare la presenza, ma in altri termini. In quel momento, anche io girando un po' appunto nell'euforia di quella che sembrava una ripresa o comunque un ritorno a condizioni accettabili di contatto, ho visto fiorire, appunto moltiplicarsi questi esercizi che letteralmente chiamavano in causa l'uso del riflesso, della figura e dell'elaborazione della figura e della descrizione verbale del gesto, eccetera, eccetera, come una necessità sostanziale per riattivare in maniera consapevole la relazione diretta, la relazione in presenza. Non faccio l'elenco perché farei torta a qualcuno, però erano tutte cose di un certo interesse perché testimoniavano l'aspetto fisiologico della riflessione su materiali e forme, per dirla in maniera molto rapida, ma in quel momento mi sono voltato un attimo indietro, mi sono guardato intorno, in realtà su tutto questo Paola Bianchi rifletteva da anni in maniera radicale e profonda. Questo è uno dei modi di invitarci tutti quanti all'attenzione su ELP, su ethos, logos, pathos, perché si tratta di un'idea che poi ha generato un metodo, come dicevo prima, di inesorabile coerenza e nello stesso tempo di responsabilità fattuale, che consisteva nell'andare sul campo a sperimentare che cosa nasceva nel pensiero, dal pensiero nel momento in cui si faceva carico dei fattori elementari della pratica. I fattori elementari della pratica, attenzione, inelto, era presupposta una strategia di distruzione, dissociazione, disgregazione, che scomponeva, per poi trasformarla, la relazione consueda, normale, quotidiana, che definisce il nostro habitat, che definisce appunto il nostro ethos, che è la prima parola. Come chiamo io le immagini di ciò che vedo e di ciò che penso dentro di me? Come ne parlo? E ancora prima che un dispositivo si insedi, si metta in mezzo tra di me e il mondo, che cosa c'è nella mia mente, nell'atto in cui percepisco quello che c'è intorno a me? E come la parola modella, plasma, agisce su tutto questo, su questa relazione primaria? Appunto qui grafie potrebbe essere stratigrafie, ideografie, eccetera, eccetera, prima ancora e oltre che fotografie. Poi è chiaro, Enrico Fedrigoli vede la struttura nell'atto e la crea, nel suo elemento. Paola Bianchi si muove nello spazio e attraversa queste dimensioni, queste membrane, che è un termine che ha usato Samantha e che usa frequentemente Paola Bianchi quando parla del modo in cui la sua relazione con l'esterno implica l'attraversamento di questi strati di immagine, di parole che ci avvolgono. Ora, lavorare in maniera, qui vi spiegherà poi Paola in maniera precisa, più precisa, quanto il suo rapporto con l'immagine implichi l'esperienza dell'iconoclastia e dell'invisibilità. Ma questo lo vedremo perché anche il modo poi in cui ha preparato la sua presentazione è estremamente analitico, perché c'è questo letteralmente di drammatico che dà senso e dà peso alla performance. Quando diciamo prelevare, questa non è un'operazione neutra, incluenta, significa letteralmente mettere le mani, mettere le mani e farlo con un partito preso di trasformazione, mettere le mani nel flusso, nello stream, nella corrente che ci avvolge e poi prendere, pescare, tirare fuori, astrarre per ogni nostro movimento, per ogni frammento della nostra esperienza visiva e rimettere in circolo tutto questo, altrimenti. Ora, queste parole che dico io vi danno semplicemente una vaga idea dell'orizzonte del progetto che Paola sta per presentare, perché quello che vedrete adesso è la scansione molto precisa che poi chiama in causa direttamente non solo il lavoro sui materiali, sulle immagini, ma anche uno stile di pensiero. Abbiamo dato un titolo a questo dialogo che proprio mette in campo un termine forte, che è pensiero, perché per quanto mi riguarda io sento questo bisogno. Cioè che nel riprendere i tempi di produzione dopo l'assenza, dopo gli interrogativi radicali, noi che siamo testimoni, osservatori o attori, nel produrre atti, nell'intervenire nel mondo, in questo momento, in questo momento, stiamo dimenticando quello che Warburg chiamava Denkraum. Faccio apposta questa citazione con un vocabolario caro alle nostre ricercatrici, perché qui oltre al pathos, alle forme, alle formule, si tratta proprio di respirare e di creare uno spazio di pensiero per respirare. Per questo credo che riflettere, prendere atto letteralmente di questo progetto che riprende una pratica analitica straordinaria, sorretta da una consapevolezza del metodo estrema, e è un passaggio fondamentale, iniziale, per capire di cosa si tratta, letteralmente. E in questo poi Paola ci invita a nominare, a nominare dei passaggi cruciali in maniera nello stesso tempo colta e trasparente, perché quando leggete ekphrasis, tutto questo appunto significa vedere l'invisibile nelle parole. Quando si parla di energia, che poi è stata una delle importantissime e straordinarie realizzazioni che sono state un esito di questa logica, si parla dell'atto. Che cos'è il prendere atto? Se non il prendere atto di come nel mondo tutto si tiene per immagini, parole e gesti che infrangono. E gesti che infrangono la consuetudine, la perdita di energia vitale che c'è nella normalità. Ecco, di questo sicuramente avrete idea adesso, nel momento in cui Paolo va a presentare Help, che è appunto un progetto nato prima, che ha attraversato le emergenze, e che continua a essere il suo strumento di lavoro. Questa è la cosa più importante. E al di là appunto dei giochi di ruolo di questi dialoghi, sicuramente lei ve lo farà capire in maniera estremamente chiara ed efficace nella esposizione che ha preparato nel progetto. Poi ripeto, potremmo continuare a parlarne, nel senso che è come se un testimone rispetto a questo dovesse dare semplicemente a un certo punto di fronte alla radicalità e all'efficacia di questo spazio di pensiero realizzato, dovesse testimoniare delle apparizioni e le modalità con cui questa responsabilità del prendere atto si è manifestata nella realtà. Lascio la parola a Paola Bianchi. Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio Samantha per l'invito e soprattutto Raimondo per queste parole, perché mi sono quasi commossa, posso dire. Dunque sì, cercherò di raccontarvi un po' che cos'è questo progetto, che effettivamente non è complicato, ma è complesso. Quindi non è semplicissimo, come dire, tracciare bene le linee, ma forse poi il video preparato può dare un po' più di chiarezza, di linearità, perché la linearità c'è e non c'è. Nel senso che il progetto HELP ha, come dire, due macroindagini all'interno. Uno è proprio l'indagine sul rapporto tra il corpo e gli immaginari culturali di cui i corpi sono depositi. Nello stesso tempo c'è una seconda fase, che però non è una seconda, è quella che ha fatto proprio nascere in realtà il progetto, e che è questa relazione tra la parola descrittiva e la danza. Quindi come modalità sia di trasmissione della danza per la creazione di nuovi dispositivi, che quindi possono essere performance con persone diverse o altro, insomma vedremo, quindi sia a livello di incarnazione della parola descrittiva, sia a livello di incorporazione della parola descrittiva. Distinguo incarnare e incorporare, perché incarnazione è la parola descrittiva, è semplicemente che io descrivo le possibilità, sono i piedi uniti, il braccio destro disteso di lato, c'è proprio una descrizione anatomica, senza nessuna emozione, senza nessuna qualità, quindi molto, cioè emozione voglio dire a livello di parola, quindi non c'è mi sento come in genere per la danza, anche per aiutare a creare delle immagini, mi sento in mezzo a un prato e cammino a piedi nudi, no, cioè è la descrizione secca. Questa descrizione secca può essere attraverso l'audio, quindi in registrazione, può essere incarnata e quindi io divento quella descrizione, che ovviamente non è più quella che era la mia di partenza, oppure io incorporo, nel senso lo ascolto e mi immagino attraverso una sorta di immaginazione muscolare, mi immagino quel corpo che si muove, che assume. Io chiedo Raimondo se ci sono delle cose, cioè intervieni tu, dimmi perché poi io parto, uno non ti lascio spazio, il secondo magari ci sono delle cose da chiarire o da approfondire. Quindi le due cose, l'immagine e la parola, sono strettamente legate attraverso il corpo, che è esattamente quello che ha detto Raimondo. Credo che proprio per il tema toccato da grafie del corpo sia importante forse concentrarsi più sulla questione immagine-corpo che non corpo-parola, anche se in realtà nella presentazione, cioè nel video sarà presente inevitabilmente, ma veramente accennato. Però prima di, perché forse può essere interessante capire come queste immagini modificano il corpo, cosa succede all'interno del corpo e quindi qual è il processo, forse è bene iniziare a vedere il video. Non c'è audio, quindi io parlo sopra così non portiamo via tempo al tutto. Solo un'ultima cosa, questo lavoro intorno alle immagini inizia con una prima operazione, che è quella della stampa in bianco e nero su carta di tutte le immagini che vengono raccolte, e che adesso vi dirò come vengono raccolte, perché a seconda dei vari archivi ci sono metodi diversi. Ma questa stampa proprio in bianco e nero, perché? Perché sono i colori del lutto e perché la fotografia, penso, nasce proprio, anzi senza penso, nasce per, come dire, immortalare, nasce strettamente legata alla morte, per dare anche nuova vita, ovviamente, è una nuova vita, io cerco di dargliela attraverso il corpo. Ecco, questo è un inciso. Possiamo partire con il video, quindi, numero uno. Ecco, allora, io ho iniziato con una serie di archivi, la realizzazione di una serie di archivi. Questo primo archivio, che ho chiamato Memorie Occidentali, e che, direi, è un archivio retinico mnemonico, parte da una domanda a 40 persone italiane, alle quali ho chiesto via mail, quindi senza contatto, quali erano le immagini che si erano fissate nella loro memoria visiva, quindi nella loro retina, e che continuavano a essere vive, senza questioni di tempo, potevano essere vecchissime e recentissime, memorie non personali, cioè legate strettamente alla propria vita, quindi la foto del compleanno, dei dieci anni, ma immagini, certo, personali, ma condivise in qualche modo da una collettività, quindi immagini pubbliche in un certo senso. Quindi sono arrivate delle immagini sia storiche, legate a momenti storici che hanno cambiato il corso della storia, sia icone, come avete visto Marilyn Monroe o altro. Le ho chiamate occidentali, perché sono le stesse che in realtà sono arrivate, sono immagini, no, c'è stato un salto, no, 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 c'è successo qualcosa nel video, scusate, ecco, ok, un secondo, c'è stato un salto, un piccolo salto, comunque un secondo di pausa, arrivo, le ho chiamate occidentali, perché sono le stesse, che in realtà sono arrivate anche da persone europee, quindi anche se sono tutti italiani, poi ho fatto un piccolo test, eccetera. A partire da queste immagini, ci fermiamo un secondo, per favore, queste immagini, quindi queste immagini, poi vi spiego come, ma dopo sono entrate nel mio corpo, attraverso una scelta anche, sono diventate Energia, quindi un mio solo di danza e questo solo di danza è stato poi, prima di debuttare, io ho fatto una ripresa video frontale, piatta, e ho fermato l'immagine del video, nel momento in cui, ovviamente nel mio pensiero, perché le immagini si sono trasformate, quindi io non lavoro mai per imitazione delle immagini, ma è un processo altro, nel momento in cui io so che quell'immagine per me è chiara sulla scena e ho descritto a parole, come dicevo prima, la postura del mio corpo. Attraverso la descrizione di queste posture sono stati realizzati una serie di altri dispositivi, diciamo, il primo è Exrasis con dieci danzatrici e un danzatore giovani, giovani perché non avevano più di 26 anni, quindi molto giovani, che non è stato bloccato dalla pandemia, quindi abbiamo fatto il primo step e poi il secondo è stato buttato via, eliminato, sia coercioni con persone non professioniste, uno con quattro ragazze cieche, perché mi interessava proprio andare a escludere l'immagine completamente, quindi andare a indagare veramente la relazione tra la parola pura e il corpo. Archivi di posture, che è quello che adesso inizia, ma un secondo lo faccio partire, che è nato durante il lockdown. Io avrei dovuto continuare a fare altri laboratori e incontri perché volevo continuare ad analizzare proprio che cosa creava questa descrizione nel corpo di persone di diverso tipo e i laboratori non erano stati abbastanza per me per arrivare a definire in qualche modo un metodo e capirlo e quindi ho lanciato questo progetto su Facebook, su Instagram, chiedendo chi avesse voglia di partecipare proprio per aiutarmi, quindi non era tanto una questione di passatempo, ma proprio per aiutarmi a capire e non bloccare la ricerca, di partecipare. Quindi io ho mandato dieci descrizioni, quindi file audio via mail alle persone che hanno aderito e sono state più di 150, le quali mi hanno, mandavo un video ogni quattro giorni e loro mi restituivano una foto del proprio corpo che, come dire, che incarnavo una serie di video, ma insomma è interessante forse capire cosa succede. Ecco, questi, cioè ognuno, ovviamente qui c'è un pezzetto breve, eccoci, un secondo di pausa di nuovo, è proprio una cosa da ascoltare e qui è molto breve, solo per darvi un'idea, ed è non è solo la descrizione delle posture, ma è proprio la descrizione di una coreografia, dieci minuti di coreografia, che io ho fatto sempre a partire da Energia e che ho descritto verbalmente in ogni passaggio. c'era stata la possibile, insomma, la fruizione era doppia, quindi un primo ascolto nel buio con le cuffie, quindi un ascolto personale immersivo, un secondo ascolto invece in cui, senza cuffie, in cui era possibile agire la coreografia, quindi ascoltando e seguendo le indicazioni. Ecco, questa l'ascoltiamo un pezzetto. si appoggia sul pavimento, alzo il ginocchio sinistro con il piede appoggiato a terra, distendo la gamba destra di fianco al piede sinistro, il braccio sinistro disteso si appoggia sul ginocchio sinistro, la testa dritta si volta leggermente a destra. Ok, questo è un esempio. Questo invece è il secondo archivio, che ho chiamato altre memorie e che ha coinvolto sempre 40 persone, che qui in questo caso invece ho incontrato personalmente, ma persone con background migratorio che vivono in Italia, anche da quel momento da 10 giorni, non aveva importanza oppure da anni. E vengono veramente dai paesi più diversi, Egitto, Burkina Faso, Cina, Brasile, Libia, Venezuela, Albania, Israele, Cile, e ci fermiamo un secondo, Turchia, Bangladesh, Peru, Cuba, Gambia, Guinea con Raki, con Acri, Senegal, Kosovo, Marocco, Pakistan, Nigeria, Mali. Queste persone le ho incontrate, perché ovviamente non c'era il rapporto, sia per una questione linguistica, perché non era semplice la comunicazione, non con tutti, sia perché erano persone che dicevano, sì ma te chi sei ovviamente, cioè se le 40 persone italiane, io le ho scelte tra amici e non amici, comunque persone che potevo contattare anche via mail, qui sarebbe stato più complicato. Perché sono andata in questa direzione? perché se i nostri corpi esprimono sempre comunque un'identità collettiva, cioè rappresentano una data cultura, come proprio una cultura che arriva da un'appartenenza etnica, da un'educazione particolare, da un certo ambiente visivo, mi sono chiesta quindi quali fossero le immagini depositate in quei corpi che arrivano da luoghi in cui sono arrivate altre immagini, quindi che hanno negli occhi delle altre immagini. Nello stesso tempo, siccome credo fortemente che i corpi in qualche modo e ci sia un fenomeno che è quello della consonanza, che è molto importante, che non è limitazione, ma è proprio l'assumere alcune modalità e poi modificarle nel proprio modo, modalità di movimento, l'avvicinanza con persone provenienti da altre culture, per fortuna modifica anche i nostri corpi. E quindi per me era importante anche analizzare quali sono le immagini che vanno a modificare il corpo, perché appunto come ci dice Hans Belting, le immagini entrano nel corpo attraverso gli occhi, lì si depositano e modificano il corpo in qualche modo. Poi ripartiamo, ma solo un secondo, non so se avete notato la lunghezza diversa, cioè quante poche immagini ci siano, mi siano arrivate in questo archivio altre memorie e quante immagini invece mi sono arrivate nelle memorie occidentali. Questo la dice lunga proprio su quanto noi siamo tartassati dalle immagini. Quindi se pensiamo che 40 persone per l'archivio occidentale mi hanno inviato in tutto circa 450 immagini, nell'archivio altre memorie 40 persone mi hanno inviato in tutto 60 immagini. Ed effettivamente molti mi hanno detto ma dove vivevo io non c'era internet, non c'era e non c'è ancora, non c'è la televisione, non c'erano i giornali, quindi le immagini sono diverse, le immagini sono legate a un mio vissuto. Quindi ci sono molte immagini che sono proprio una rappresentazione del proprio corpo durante un'azione. Un ragazzo senegalese mi ha detto io appunto nel mio paese, nel mio piccolo villaggio, cioè non arrivava nulla, quindi nessuna immagine e lui ha cercato su internet l'immagine che rappresentasse lui bambino perché quella è come dire la cosa che lui si porta dietro insieme ad altri bambini del villaggio che andavano a raccogliere la legna per cucinare. Quindi c'è questa immagine di questo bambino con la legna in testa che è presa da internet ma è un'immagine interna, ma in qualche modo è un'immagine condivisa da una collettività perché tutti quei bambini di quel gruppo, di quel villaggio hanno quella stessa immagine dentro non solo la retina ma il corpo. Quindi sono anche modalità diverse, cioè è un archivio che indaga in un modo diverso. Ok, possiamo andare avanti, questo archivio, queste altre memorie ha generato On che è un mio solo in uno spazio ristretto e circolare tre metri per tre col pubblico intorno e attraverso la parola descrittiva è arrivato un altro corpo, quello di Barbara Carulli, una giovane danciatrice ed è nato Ader Adernes. Poi c'è un terzo, scusate che sono molti, forse quando vi annoiate me lo dico, un terzo archivio che è appunto i corpi della protesta. I corpi della protesta è stato invece realizzato in tre, cioè con una ricerca che è stata fatta da tre persone, quindi da me, da Fabrizio Modonese Palumbo e da Stefano Murgia che sono coloro che lavorano anche intorno all'audio, cioè quindi sui suoni di questo progetto e sono proteste però esclusa facendo eccezione quella della lotta palestinese, se no sono tutte proteste dagli anni 2000 in avanti, quindi abbiamo escluso il Novecento proprio perché sia i corpi sono cambiati sia perché lo spazio della protesta è cambiato e il modo di protestare è cambiato, quindi ci interessava analizzare un presente, ecco non è, cioè per me l'archivio non è roba morta, quindi l'archivio non è una cosa legata solo al passaggio, è una cosa anzi che diventa, come dire, l'archivio entra in me e quindi prende nuova vita, anche qui vi spiegherò il processo perché è un altro modo di assumerlo, comunque da queste immagini è nato sempre un mio solo che si intitola No Polis ed è una Durational Performance di due ore in cui si può entrare, uscire, guardare da riunire qualche immagine. di passare a quest'altro archivio devo solo dire che a un certo punto da questi tre archivi io ho frantumato tutti gli archivi e appunto ho chiamato, ma qui non vi faccio vedere niente perché non ci sono immagini, perché ci sono solo parole e l'ho chiamato archivi frantumati e cioè cosa ho fatto? Tutte le descrizioni delle posture descritte io le ho divise in se il corpo quindi braccio sinistro testa mano destra mano sinistra gambe eccetera li ho mischiati veramente con un progetto aleatorio perché ho chiesto a persone di darmi dei numeri quindi proprio senza nessuno e le ho ricomposte le ho ricomposte via audio quindi io durante e da qui sono nati due due performance uno è Assimiglia che è proprio uno spettacolo da palco diciamo da scena e l'altro è Bad Being in the act of doing che invece è uno spettacolo senza scena da fare ovunque ma è un spettacolo è una performance sono 20 minuti e io sono etero diretta dalla mia stessa voce che mi dice braccio destro in alto braccio sinistro in basso la gamba qui la gamba là eccetera proprio come dire è un po' nato da anche da dalla post post lockdown in qualche modo questi corpi frantumati da questo modo che abbiamo noi adesso di comunicare per cui io sto di vita sotto posso avere i pantaloni del pigiama che nessuno lo sta i miei piedi sono ghiacciati e io lo confermo mentre invece la parte alta è calda perché la presenza cambia la coscienza del corpo quindi noi a un certo punto ci siamo ancora più frantumati di quanto non lo fossimo e soprattutto ho sentito che non c'era possibilità di scelta di alcun tipo c'è ancora meno di prima nella come dire nel nostro nella nostra contemporaneità quindi questo etero diretta per me è proprio un annullamento completo della scelta se mai c'è stata scelta o c'è scelta nelle nostre vite di esseri umani contemporanei ok altro che è iniziato ancora questo è il primo archivio legato ai corpi del lavoro legato a Bata non so perché si interrompe vai non va legato a Bata cioè come dire la fabbrica di scarpe in cui ho che ho come dire frequentato con la fabbrica perché è chiuta ma sono stata a Bata la ville in stadina costruita come dire perché si ferma il video perché c'è la connessione costruito nel niente c'è nel niente questi posti grandissimi dove non c'è nulla intorno solo campi e quindi il signor Thomas Bata è arrivato e ha costruito le sue fabbriche le case per gli operai le case per i dirigenti i negozi e intorno nulla quindi la vita era tutta lì a Bata associazione di ricercatrici donne attrici che si chiama FA che mi hanno riparto in residenza ed è nato il fabbrica che è un progetto lungo e questo è il lavoro cioè due immagini del lavoro fatto a Bata il loro festival possiamo andare in ok questo quindi è a grandi linee il progetto Raimond se vuoi dire qualcosa se mi proseguo allora questo era una impressionante esposizione sul valore genetico evidentemente dell'esperienza dell'immagine del prelievo e della frantumazione della corrente delle immagini per generare e rigenerare azioni e quindi si potrebbero fare tanti discorsi che non faremo sull'economia simbolica le cose quanto questo significa consapevolezza trasformazione degli aspetti radicali delle radici biologiche della creazione però mi limito soltanto a dire che quello che rischia di perdersi in tutto ciò appunto questo il supplemento del narratore è questo qui letteralmente le peripezie di Paola Bianchi in cui si sono manifestati gli episodi alla cui sintesi voi avete alla sintesi dei quali voi avete in qualche modo assistito indirettamente con questa dimostrazione i bar del Pigneto i retro bottega dei caffè di Rimini o degli spazi efficienti ma come dire espressamente relegati nelle riserve della marginalità l'esperienza di Paola Bianchi è una grande rivendicazione di come fisicamente io ricordo che dopo molti anni io l'ho rivista entrare in scena dal diciamo dal vano illuminato di un locale di servizio che stava che stava oltre alla soglia oltre il limite di una sala del TTVV di Riccione entrava come un'intrusa deformando volutamente la sua presenza per dire io sono qui io sono altro ma sono in grado di trasformare me stessa e trasformando me stessa trasformo il vostro sguardo e c'è una strategia dei movimenti nel mondo reale che poi sarà tutta da raccontare come l'ombra necessaria dell'evidenza e della consapevolezza delle tecniche di prelievo e trasformazione di cui Paola vi ha parlato io prima stavo riguardando la memoria artificiale e nel 2016 eri nell'estate del 2016 eri in una residenza di Stalker Teatro cioè a Piazza Montale alla periferia di Torino e il tuo lavoro cominciava nel buio dalla registrazione della tua partitura di movimenti e tu stavi riflettendo se stare dietro una tenda non è come esserci nell'invisibilità questo era un altro modo di stare sul confine sulla soglia di essere consapevoli del fatto che il per lasciare una traccia nel passaggio delle immagini che ci travolge che ho detto prima ci avvolge in realtà ci travolge bisogna lasciare nel tempo l'impronta della consapevolezza e quello che tutto questo lavoro di Paola Bianchi che riguarda sia il lavoro che la trasmissione della coreografia naturalmente ci sono tanti corollari che non possiamo qui toccare il fatto che tu dici il maestro non può imporre quindi la dissociazione della parola dal movimento questo isolamento il fatto che questi ragazzi non vedono te i ragazzi non vedono te ma ascoltano quello che io ascoltavo nel buio di Stalker Teatro nel 2016 cioè non la stessa cosa ma nello stesso modo perché ci sono spettatori che poi ascoltano in uno degli episodi del tuo progetto una descrizione significa lottare contro una sintesi eterodiretta che noi chiamiamo la realtà quotidiana e quindi conquistarsi dal margine uno spazio di decisione di sovranità che è vitale per la creazione e appunto io per quanto mi riguarda io volevo concludere così dicendo però attenti ci sono i viaggi le presenze di Paola Bianchi che sono assolutamente essenziali per capire penso tu dopo questa esperienza che non a caso interroga le radici del gesto del lavoro che è un tema della contemporaneità che lo sottolineiamo e poi lo lasciamo là se no non finiamo mai se no non si finisce mai di riflettere cioè tu vai a Caracolle il 22 no? quella è un'altra scoperta cioè tu vai in cerca di luoghi altri questo si per forza per forza tu vai per forza in cerca di luoghi altri e quindi in questo senso la necessità e la libertà si intersecano nel tuo lavoro e trovano uno degli esiti nella 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 conesistenza nella coerenza della strategia di cui hai parlato e a cui oggi abbiamo percepito alcuni aspetti no? cerco solo di dirvi brevemente le diverse modalità di assunzione cioè di incarnazione delle immagini a seconda degli archivi ma molto velocemente allora ovviamente ogni immagine ha una sua modalità ben precisa quindi ha una sua vita propria quindi è un modo diverso di entrare quindi dovrei dirvi esattamente immagine per immagine cosa è successo ma ci sono delle macro differenze no? a seconda degli archivi allora l'archivio memoria occidente una scelta operare questo archivi era tra virgolette facile è stato facile assumerlo perché io di o immagine conoscevo il prima il dopo il come dire il rinso di quell'immagine che cosa se io vedo il corpo di Aldo Moro nel bagagliaio io so che cosa ha significato quella cosa per me cosa ha significato per noi come italiani se vedo una persona che precipita dalle torri gemelle io so che è stato quel momento per tutti quindi mi è stato tra virgolette anche nelle immagini più devastanti più facile in qualche modo cioè il mio corpo che era proprio agio dentro a quelle immagini oppure quelle immagini dentro il mio corpo non lo so e l'assunzione non avviene per imitazione del corpo quindi la forma ma proprio per disgregazione di quella forma cioè io cerco sempre di eliminare la forma quindi attraverso un processo informale quindi di rovesciamento della forma in qualche modo cioè la relazione tra le forme che mi interessa quindi abbastanza diciamo più più semplice altre storie sono completamente diverse perché erano immagini a me sconosciute non sapevo che cosa che cosa mi mi raccontavano quindi come dico io le ho come dire invece che entrare dentro l'immagine cioè un po' dai bordi le ho le ho prese quindi non è stata un'assunzione piena ma in qualche modo sempre cioè il mio corpo non è mai fermo in quel lavoro che è on quello che è nato a partire da quel lavoro perché non c'è mai la fissità di una forma non ho mai la certezza di nessuna immagine non sono immagini che sono senza problemi e sui corpi della testa invece è lì inizia la frammentazione il lavoro è stato di frammentazione del corpo tra il sopra e il sotto quindi la parte sopra ha un assume in qualche modo la postura di un di una lotta di una protesta e sotto e il tutto è del corpo quindi una lentezza costante senza mai accelerazioni o decelerazioni e il modo è una leggera tensione interna quindi non è un movimento legato morbido ma ha sempre come una resistenza da opporre resistenza all'aria intorno per i corpi del lavoro non dico niente perché non lo so ancora perché qui ogni luogo detta delle modalità diverse e poi sono archivisti sia storici che personali che passano attraverso interviste come nel caso anche di barra sono riuscita ad entrare in archivi storici poi di chi logistica non ce l'hanno come è successo una residenza a Vicenza che porterà al lavoro che accennavi tu prima al mondo alcuni archivi non esistono quindi esistono solo le parole i gesti i movimenti che mi fanno vedere le persone intervistate chiudo solo dicendo che è interessantissimo che ci sia Enrico Fedrigoli adesso subito dopo perché con lui c'è quasi un cortocircuito perché io parto delle immagini le porto nel mio corpo e poi le riporto a diventare immagini con il lavoro con Enrico non è come ma lavora con il banco ottico io devo veramente stare immobile per tempi infiniti quindi ritornare all'immobilità bloccando un momento dei lavori che sto facendo insomma e il movimento lo ridà lui insomma quindi credo che sia interessante questo cortocircuito sull'immagine il corpo non so ringrazio Raimondo perché mi hai aperto altre immagini grazie e grazie a voi io come come speravo il vostro dialogo ci ha già dato molte parole su cui potremmo come dire riconfigurare la presentazione vorrei ripresentare il convegno nel senso che vorrei adottare stratigrafie invece che grafie vorrei assumere diciamo alcune delle vostre parole per iniziare a creare un primo strato diciamo di profondità una prima stratificazione di questa nostra visione allora il fatto che la connessione di Paola ogni tanto si bloccasse ci ha costretti credo tutti a una postura noi non potevamo più essere ferme abbiamo di ogni parola speravamo che si sentisse la sillaba finale no non di ogni solo qualche volta Paola quando tu vedevi il video che proprio si bloccava era perché noi non sentivamo bene più te quindi avevamo però credo immagino non abbia compromesso insomma erano dei momenti così che però hanno attivato la nostra veramente la nostra postura e oltre che ringraziare moltissimo veramente vorrei assumere alcune delle cose che voi avete messo diciamo sul tavolo perché intanto c'è la questione fortissima dell'archivio che un artista come Paola utilizza affronta attraversa e da cui si lascia attraversare in un modo che è molto diverso dal modo in cui per esempio gli studiosi sono abituati a frequentare l'archivio che è in un certo senso importantissimo da assumere da percepire da come dire assimilare come prospettiva e poi questa cosa che un danzatore una danzatrice come Paola la dice come una sua esperienza concreta quindi come dire molto materiale molto reale delle immagini che entrano negli occhi e si depositano nel corpo questo succede anche a chi poi non costruisce un'azione fisica a partire da quelle immagini però è interessantissimo che invece chi costruisce un'azione fisica ci ricorda questo processo perché in realtà questo avviene anche a noi diciamo abbiamo le immagini ficcate nel nostro corpo quelle dell'immaginario collettivo quello del nostro immaginario personale quelle che abbiamo visto di sfuggita quelle che non abbiamo mai visto ma avremmo voluto vedere quelle che abbiamo visto per un tempo troppo breve come accade a quelle immagini che non sono riprodotte riproducibili e diffuse come ormai siamo abituati con quasi tutte le immagini quindi vorrei assumere da parte loro tra le tantissime cose molto interessanti che sono emerse un po' queste condizioni cioè l'immagine qualcosa che si deposita dentro la nostra esperienza e che poi ci vuole l'azione di un danzatore a evidenziare a ricordarci che tipo di dimensione corporea generano e che apertura del pensiero costruiscono no? che tipo di spazio del pensiero costruiscono poi questa dimensione di una di una stratigrafia allora non vi faccio tutte le domande che vorrei farvi perché ho preferito decisamente non interrompervi ci prendiamo il tempo che ci serve su tutti gli interventi senza fretta alcuna però ecco limitiamo poi il resto le domande online diventano anche un dialogo molto strano quindi se voi siete d'accordo noi depositiamo le domande e ragioniamo su quello che voi avete posto e intanto io mi prendo questo ruolo un po' ruolo strano da presentatrice a distanza devo dire un po' faticoso però mi piglio un po' l'incarico di presentare man mano i materiali e le persone che vi proponiamo e quello che io adesso presento è il primo dei frammenti video che noi vediamo sul processo di costruzione dell'Atlante ci tengo a dire che per esempio l'anno scorso io e Paola c'eravamo io e Paola Bianchi c'eravamo un po' confrontate a distanza perché con esiti con prospettive con intenzioni completamente diverse c'eravamo trovate a compiere un gesto molto simile e praticamente cronologicamente contemporaneo cioè riversare in una sala di danza centinaia di piccole immagini stampate e iniziare a disporle a terra muoversi là dentro cioè accorgersi della presenza di queste immagini nello spazio lei ha spiegato bene la grande prolificazione con cui quel gesto diciamo iniziale non era il primo gesto naturalmente ma insomma era una tappa di questa progettualità modulare molto complessa giustamente come dice lei di di lavori di danza che partono da quel primo dall'accumulo da quell'accumulo della visione eccetera quando noi abbiamo invece disseminato tipo noi del nostro progetto di Atlante della fotografia di danza abbiamo disseminato quelle immagini andavamo in un'altra direzione non sapevamo ancora bene in che direzione saremmo andate però quel primo gesto fondativo della nostra ricerca è stato lo stesso svuotare buste valigie di immagini scaricate da internet stampate e ritagliate l'importanza di poterle maneggiare di vederle di toccarle di vederle su carta seppure il corpo che assumevano era molto diverso dal loro corpo originario perché quando lavoriamo sulla fotografia dell'inizio del novecento lavoriamo non su dei file diciamo diventano dei file in quarta quinta decima battuta ma lavoriamo su degli oggetti molto concreti molto pesanti molto diciamo con un corpo molto molto specifico però poi dall'altra parte noi oggi abbiamo la possibilità queste immagini di vederle negli archivi di tutto il mondo digitalizzate scaricabili eccetera allora c'è questa seconda incarnazione che è un'incarnazione molto leggera su carta semplice su cui noi le stampiamo le ritagliamo e poi iniziamo a far loro a dar loro spazio fisicamente e a muoverci dentro di loro e a muoverle tra di loro iniziando a creare delle zone degli sciami inizialmente prima ancora che annelli diciamo sono degli sì degli sciami degli agglomerati di sensi dei coaguli possiamo dire così su cui noi che noi osserviamo e da cui poi ci facciamo spostare ci sono dei coaguli che sono assolutamente transitori cioè ci accorgiamo che quelle immagini si sono accostate per una pura motivazione estetica per esempio formale ci piaceva quel montaggio diciamo ma che poi non ci portano da nessuna parte non ci aprono scenari che non ci aspettavamo restano una configurazione diciamo una collettività di immagini un arcipelago ci sono invece dei coaguli che assumono densità non solo visiva non solo estetica ma diciamo che riescono a spostarci a porci dei problemi a farci notare delle cose che solo nell'accostamento noi notiamo ricorrenze oppure contrasti immagini che ogni tanto come diciamo si attraggono oppure si spingono immagini che si somigliano senza che noi capiamo bene il perché perché magari sono prodotte in contesti storici diversi rassicurano situazioni molto diverse quindi cominciamo a fare questo processo ora questo gioco di associazioni noi lo facciamo ormai da diversi anni di solito il gruppo di ricerca si chiude alla lupa di Tuscania per alcuni giorni in estate mentre tutti gli altri vanno al mare noi giochiamo con le figure della danza e iniziamo senza sapere ancora quell'anno quali saranno le prospettive che si aprono a farci guardare dalle immagini farci sollecitare dalle immagini lasciare in qualche modo che siano loro a un certo punto a farci notare degli spetti del lavoro che nelle letture negli studi nell'osservazione solitaria noi non percepiamo non riusciamo a intercettare allora nei diversi anni questi coaguli hanno generato diverse forme anche dell'Atlante che è diventato una mostra un catalogo poi dopo un'installazione virtuale ogni anno si configura in un modo sta cercando ancora la sua forma o forse no sta cercando le sue forme con cui man mano in base al tema forte che emerge assume quest'anno noi siamo tornate forse al punto di partenza dopo tanto tempo nel senso che ci siamo date dei temi che erano dei temi inevitabili erano i temi della diciamo possiamo chiamarla esplicitamente la sopravvivenza dell'antico nelle raffigurazioni non però cercata nel grande patrimonio visivo sempre per rinascimento come il modello dell'Atlante di Warburg suggerisce ma e i suoi studi ma piuttosto come queste stesse matrici queste stesse impronte hanno agito sulla danza di inizio secolo di inizio novecento che è stato un periodo indiscutibilmente di ritorno al modello dell'antico di rivalutazione di rigenerazione di quel modello naturalmente osservato e filtrato attraverso una serie di istanze culturali attuali in qualche modo allora su questo noi già avevamo mosso dei passi verso l'impronta dell'antico avevamo per esempio messo insieme moltissime immagini di danza scattate sul partenone di Atene nei primi decenni del secolo cercando di individuare la differenza tra il partenone utilizzato come sfondo e il partenone come luogo dell'azione questo si vedeva nelle immagini si vedeva la differenza e anche abbiamo guardato il velo i costumi la tunica tutto un apparato di accessori che stanno al confine a volte tra la mascherata archeologica diciamo così e invece l'assunzione di una attitudine di una postura che passa anche attraverso gli abiti l'estetica eccetera allora quest'anno noi siamo cadute dentro al baso diciamo dove intorno al quale abbiamo girato per un po' e prima o poi dovevamo cadere cioè siamo cadute in una formula in un modello molto forte che è quello delle tre grazie un tema antico che nel rinascimento ha una sua vita nuova molto particolare molto resa celebre da alcune raffigurazioni di cui sicuramente insomma sentirete parlare in questi frammenti e che poi ha avuto di nuovo una grande come dire riconfigurazione culturale nel tardo settecento all'ottocento con la scrittura di Canova per esempio con le poesie di Foscolo una serie di onde che hanno riportato questo tema in diverse epoche in diverse culture con diverse estetiche conservando qualcosa della loro matrice originaria ma anche trasformandosi continuamente ora all'inizio del novecento questo tema questo tema arriva nella danza arriva anche nelle immagini ma arriva soprattutto nelle immagini di danza quindi arriva nelle immagini attraverso l'incorporazione che è una generazione di danzatori di danzatrici più nello specifico a cui lo sottopone diciamo si mette nel corpo questo tema qualche volta assumendo quasi esclusivamente l'aspetto estetico visivo prendendo le immagini che raffigurano le tre grazie al modello figurativo altre volte forse con più maggiore o minore consapevolezza entrando anche nel tessuto della trasformazione del senso del valore dei significati che queste figure hanno portato nel tempo allora il nostro diciamo pannello che abbiamo smontato ricostruito e riconfigurato porta questo tema qui non è solo una ricerca una ricognizione iconografica naturalmente sul tema delle grazie ma è il tentativo di capire come questo tema abbia impresso le sue diciamo lasciato le sue impronte sull'azione fisica dei danzatori e poi a loro volta questi danzatori come abbiano lasciato l'impronta delle grazie nella figura della danza moderna dove naturalmente il codice raffigurativo ha un peso pari a quello del codice coreutico in un certo senso questo primo frammento che vedete è una fase del processo di costruzione di questa ricognizione biografica e bibliografica sul tema delle tre grazie se la prima fase dell'atlante prevede un accumulo una ricognizione iconografica vastissima su larga scala delle immagini che ci interessano il lavoro su un tema specifico riguarda anche la ricerca delle matrici delle immagini sorgente in questo caso abbiamo deciso di lavorare sul tema delle grazie che ha subito nel corso della storia della storia dell'arte della storia del pensiero moltissime trasformazioni di cui non sempre le danzatrici che sono poi il nostro punto di partenza sono consapevoli ma di cui senza altro attraverso l'osservazione prolungata delle immagini in cui sono raffigurate influisce moltissimo sulla loro interpretazione sulla loro incarnazione incorporazione di quel tema le grazie sono un tema che arriva dall'antichità uno dei lavori che noi facciamo è quello poi di unire alla ricognizione iconografica una ricognizione bibliografica trovare riferimenti testuali questo è un modello di lavoro naturalmente che arriva dagli studi di Warburg dal gancio tra la produzione visiva e la produzione testuale filosofica di scrittura eccetera del resto del resto sulle grazie diciamo uno degli argomenti dei punti di partenza non può che essere il quadro botticelliano della primavera che raffigura il trio delle grazie in cerchio danzante molto più dinamico delle raffigurazioni antiche e da cui prendono spunto moltissimi danzatori moderni guardando a quel quadro come un modello non solo estetico ma forse anche filosofico sappiamo bene che dentro a quel quadro ci sono sono sigillati moltissimi significati c'è il pensiero neoplatonico in particolare sul cerchio delle grazie si sono condensate le riflessioni e le interpretazioni di Ficino di altri pensatori che nel contesto della corte dei medici hanno prodotto pensiero e hanno guardato e forse stimolato i quadri e i capolavori del rinascimento con una visione del mondo con una immagine dell'universo come dicevano che ha influenzato moltissimo quel tipo di produzione pittorica le grazie di Botticelli sono poi un modello corporeo per molti danzatori sono una specie di impulso ad una versione che appunto non è rappresentativa ma è quasi sempre originaria di un modello di danza e di immagine il lavoro di ricognizione e di assimilazione e di accostamento e di montaggio in un certo senso di tutte queste immagini che arrivano da tempi da contesti e da culture diverse permette di individuare con molta facilità la ricorrenza di non solo dei temi ma delle posture degli atteggiamenti corporei della tendenza dell'andatura del movimento dopo aver lavorato sulle immagini analogiche noi riproduciamo il pannello in versione digitale che ci permette di fare un'analisi delle singole immagini più puntuale schedandole dando loro una data dove è possibile un autore un soggetto specifico e riconoscendo una tendenza che passa da un tempo storico all'altro in alcuni casi come nei frammenti dell'ouvre compaiono nell'oggetto anche i nomi dei collezionisti compaiono le storie le vicende che hanno portato una collezione ad approdare ad un museo e soprattutto compaiono talvolta le date d'acquisizione che sono uno strumento per noi interessantissimo perché il problema non è tanto trovare frammenti oggetti tracce della formula delle tre grazie nel patrimonio artistico conservato nei musei ma immaginare quale parte di questo patrimonio fosse visibile ai danzatori d'inizio secolo o ai fotografi d'inizio secolo considerato che l'oggetto della nostra ricerca è sempre la fotografia di danza dell'inizio del novecento quindi noi non facciamo uno studio sull'arte del passato ma facciamo una ricognizione delle immagini che hanno funzionato come impulsi quindi è interessante capire ad esempio dentro al patrimonio dell'ouvre quali fossero i frammenti presenti quando Isadora Duncan Canna altri danzatori si aggiravano per le sale del museo in cerca di impulsi fonti di ispirazione immagini capaci di lasciare un'impronta un segno sul loro corpo di essere di lasciarsi attraversare diciamo nella fisicità del gesto e della danza naturalmente sulle grazie l'altro grande punto di riferimento è l'interpretazione di Canova che si porta dietro moltissime altre linee di tensione poetiche e filosofiche prima tra tutte quella di Foscolo e altre tracce di questo tipo è impressionante vedere come a partire dal modello Canova canoviano si sia generata una produzione iconografica invece tutta incentrata sulla fotografia in cui alcuni fotografi dimostrano come Arnold Ghent dimostrano una conoscenza abbastanza precisa di quel modello sia di quello botticelliano che appunto di quello ottocentesco canoviano che diventano proprio dei punti di partenza non solo del movimento corporeo dei danzatori ma anche della loro raffigurazione quindi un modello condiviso dai danzatori che incorporano quel gesto e dai fotografi che lo raffigurano in questo senso l'accostamento del pannello è una specie l'accostamento delle immagini nel pannello è una specie di respiro le immagini vengono prima tutte accumulate scaricate dai siti dei grandi musei stampate ritagliate sparse diciamo e accostate secondo una serie di criteri poi vengono fissate nel pannello il quale subisce una serie di trasformazioni il pannello soprattutto analogico non è mai cristallizzato e fisso è sempre un tavolo di lavoro una mappa su cui i punti cambiano si muovono si spostano anche in base alle zone di interesse che noi individuiamo quando riconosciamo nell'opera di alcuni fotografi la matrice delle immagini del passato si possono creare delle piccole mappe di interconnessione senz'altro Arnold Gente è uno dei fotografi diciamo che si presta di più a questo gioco delle associazioni intanto per la sua cultura classica che gli permetteva senz'altro di riconoscere senza difficoltà i modelli e poi per la relazione prolungata con Isadora Duncan ma anche con la scuola Duncan diciamo così qualunque cosa significhi scuola nell'esperienza di Isadora sia la scuola fisica che lei ha aperto in Germania che poi è stata guidata da sua sorella Elisabeth sia la scuola nel senso di trasmissione di una cultura e di un pensiero sulla danza di cui appunto Gente è stato testimone nel tempo è stato interessante nella nostra ricognizione recuperare anche immagini di oggetti di consumo di circolazione attraverso cui questa formula delle grazie è passata di mano in mano diciamo oltre che sotto gli occhi di osservatori di diverse epoche la collezione di monete conservate al British Museum è stata una piccola rivelazione sia per la quantità di monete conservate sia per la varietà della scelta della raffigurazione delle grazie che sono quasi sempre il retro di monete su cui fronte compaiono figure di potere imperatrici imperatori eccetera sia per la trasformazione la trasfigurazione la trasfigurazione a cui queste figure sono sottoposte attraverso il maneggiamento sono figure consumate trasformate dal tempo usurate che trovano poi in alcuni oggetti simbolo della cultura per esempio rinascimentale come nel caso della famosa medaglia di Pico della Mirandola su cui Edgar Vind ha scritto pagine importanti trovano delle come dire delle formule fisse dei momenti di cristallizzazione in questo senso il lavoro sulla formula è un lavoro di riattivazione di rimessa in vita di rigenerazione di un modello che oltre a essere un modello estetico formale è in un certo senso un modello culturale se la matrice principale anche se non originaria naturalmente è quella di Botticelli è anche perché alcuni danzatori ne hanno scritto in modo esplicito sono molto noti gli studi che collegano appunto questo quadro anche a un ambiente coreutico gli studi sulla danza del rinascimento hanno riconosciuto una serie di interconnessioni tra la cultura coreutica rinascimentale quella pittorica e quella filosofica in cui la triade è senz'altro un tema ricorrente interessante a vedere come nel corso del tempo questo triangolo cambi i significati ma si arricchisca progressivamente di altri aspetti uno degli aspetti che lo caratterizza è che queste tre figure si mettono in movimento si mettono in moto ecco allora stacco virtualmente una immagine da questo pannello che avete visto in questo caso non facciamo delle presentazioni formali prima delle relazioni almeno prima della mia mi presento da sola diciamo soltanto che io mi occupo di questo tema da tanto tempo sia dal punto di vista storico su cui ho fatto ricerca soprattutto concentrandomi sui primi decenni del novecento sia diciamo dal punto di vista pratico delle pratiche della performance e della fotografia analogica stacco virtualmente una fotografia c'è uno dei fotografi diciamo tra quelli che noi abbiamo incontrato affrontando accumulando questa immagini su questa tematica che per una serie di ragioni è quello che dimostra una maggiore consapevolezza del tema diciamo non si limita a secondare l'immaginario delle danzatrici e a fotografarle nel loro nei loro schemi diciamo più ricorrenti ma è un come dire esperto non solo di cultura antica ma anche di come questa cultura influenza l'immaginario moderno è un fotografo americano si chiama Arnold Gant è un fotografo tedesco trapiantato in America che ha studi classici alle spalle ed è e diventa poi nei primi decenni del secolo uno dei maggiori ritrattisti e anche uno dei più importanti fotografi di danza americani di inizio secolo allora io vi propongo la lettura di una sua fotografia possiamo condividere le immagini perché tra le tante che lui ha prodotto in questa in questi venti trent'anni di lavoro lui inizia a fotografare la danza diciamo intorno al 1913 ci lavora nei primi anni con molta assiduità pubblica un libro importante nel 1916 che si chiama The Book of the Dance il libro della danza e poi continua a lavorare soprattutto raffigurando rappresentando tutta la diciamo le diverse generazioni delle danzatrici della scuola Duncan diciamo così intendendo per scuola sia il luogo dove si sono formate alcune delle eredi diciamo delle allieve sia l'idea ampia di una cultura della danza che viene trasmessa questa fotografia è anomala potevo scegliere una fotografia più in linea con il cerchio delle grazie vedremo che Ghent ne ha realizzate alcune che sono delle copie molto molto precise della postura delle tre grazie sia nella versione delle raffigurazioni degli affreschi dell'antichità sia poi del cerchio botticelliano eccetera questa fotografia è anomala ed è anomala anche perché è molto rovinata ha un supporto molto forte diciamo il corpo dell'immagine si vede moltissimo si vede quanto il suo soggetto e forse mi ha interessato anche per questo e comunque è una fotografia che per una serie di ragioni diciamo convergono su questa immagine delle tematiche che sono interessanti per i temi che stiamo affrontando allora la fotografia è questa qui e io diciamo vi propongo una lettura che inizialmente scompone questa immagine in quattro pezzi l'oggetto quindi l'oggetto fotografico questa cosa qui che noi vediamo digitalizzata e che in realtà nello specifico è una lastra che è stata scansionata e resa disponibile invertendo il negativo dalla Library of Congress che diciamo conserva la Gente Collection il soggetto queste tre ragazze che sono naturalmente tre danzatrici le formule ovvero il modo in cui questa fotografia porta dentro di sé e rilancia un tema e le forme cioè quello che dal punto di vista visivo questa fotografia conserva registrando non solo la presenza di queste ragazze ma anche una specifica modalità di abbigliarsi di atteggiarsi di mettersi in posa e di proporre l'impronta della loro immagine partiamo dall'oggetto l'oggetto è la stanzione di una lastra di vetro negativo la Library of Congress conserva questa collezione del fotografo Arnold Gente che è una collezione veramente importante dal punto di vista quantitativo anche qualitativo per noi che studiamo danza ma insomma si tratta di 20.000 negativi che la Library of Congress ha digitalizzato e reso disponibili e scaricabili in diverse qualità quindi le si può prendere in JPEG a bassa risoluzione e molte di queste possono essere invece anche scaricate in TIF da quando sono scaduti i diritti di riproduzione di queste immagini è un patrimonio sconfinato nel senso che siamo nell'era della fotografia in banco ottico sono per lo più lastre ci sono anche moltissimi esperimenti autochrome come si chiamavano cioè le lastre a colori di cui Gente era un grandissimo esperto e ci sono anche le lantern slide nel senso che Gente era un appassionato di esperimenti di proiezione e cose simili veniva chiamato in tutta Europa in tutta America per fare delle conferenze sulla fotografia di danza di cui era un grandissimo esperto e per illustrare diciamo gli esiti delle sue ricerche sulla danza e sul movimento proiettava con la lanterna magica delle slide colorate questo avvalora diciamo non solo il suo ruolo la sua il lavoro che lui ha fatto anche sulla parola sulla descrizione sulla spiegazione del suo lavoro sulla danza ma anche la grande varietà di materiali che sono conservati in questa collezione io vi faccio vedere vi ho proposto qui una scheda nel senso che sulla Gente Collection che è accessibile online figurano chiaramente tutti i dati figura l'arco cronologico che quasi sempre è molto largo quindi non ci dà grandi informazioni sulla data di realizzazione dello scatto della fotografia figurano tutta una serie di numeri che sono sia il numero del negativo come vedete appare in tutte le scansioni la numerazione archivistica che sta sul bordo esterno del negativo e poi naturalmente figurano anche i numeri con cui invece l'oggetto è archiviato dentro all'interno del sistema di schedatura della Library of Congress quindi c'è un codice che è il codice dell'oggetto e un codice che è quello della sua riproduzione della sua digitalizzazione ora quando noi entriamo in una collezione come questa siamo dentro a un caso rarissimo nella maggior parte dei casi noi scarichiamo immagini dal web di cui di fatto non sappiamo niente sappiamo pochissimo le informazioni riportate dai siti sono quasi sempre diciamo diciamo grossolane non accurate del resto non tutti i siti hanno un'intenzione archivistica anzi quasi nessuno e addirittura quelli degli archivi istituzionali nella digitalizzazione diciamo che non sempre sono molto precisi non ce n'è il tempo ma le fotografie di Ghente sono un esempio straordinario su questo perché malgrado siano le uniche fotografie che online si trovano con la scheda d'archivio precisa vengono quasi sempre utilizzate per illustrare degli articoli su Isadora Duncan ma utilizzando le foto che Ghente ha fatto alle sue al dieve quindi chiunque abbia un po' di confidenza con quel periodo della storia della danza riconosce naturalmente la differenza tra la maestra e le giovani seguaci anche nella fisicità nell'atteggiamento eccetera però questo è un caso interessante di come poi queste immagini una volta rese disponibili digitalizzate sebbene in questo caso la digitalizzazione appunto sia avvenuta alla fonte quindi con la con tutte le scade d'archivio siano poi destinate a trasfigurarsi a cambiare la loro storia ad essere diciamo portatrici di altre informazioni che via via cambiano nel tempo allora questa fotografia fa parte delle migliaia di fotografie che portano la definizione Duncan Dancer Ghente ha scattato una quantità straordinaria di fotografie di danza la maggior parte delle quali sono dedicate a questa dicitura Duncan Dancer con cui appunto Ghente indica Isadora Duncan quando la fotografa le allieve dirette che sono quelle di cui parleremo di più e poi tutta una serie di prolificazioni perché poi ognuna di queste allieve nello specifico Duncan avrà sei allieve vere a cui dà il suo nome perché le adotta che saranno diciamo incaricate poi di diffondere un po' la cultura coreutica che lei ha fondato oltre che la tecnica di movimento a cui loro si sono addestrate e poi c'è sua sorella Elizabeth Duncan a cui Isadora affida la prima e quella più duratura scuola che apre all'inizio del secolo in Germania e in cui si formano in effetti le sue sei allieve e figlie adottive qui ho fatto solo un esempio cioè ho scaricato una parte infinitesimale diciamo delle fotografie che compaiono sotto al titolo Duncan Dancer all'interno della Ghente Collection giusto per farvi vedere un po' la varietà e le operazioni sono fotografie in studio all'aperto sono fotografie a danzatrici in assolo oppure in gruppo molto spesso in trio e questo è uno dei motivi su cui torneremo sono serie fotografiche che in qualche caso scompongono il movimento e che invece in altri casi si portano dietro l'iconografia diciamo che costituisce una della maggiori fonte di ispirazioni delle danzatrici di scuola Duncan cioè l'antico troviamo moltissime immagini con il velo all'aria con la corsa delle ninfe in tutta una serie di atteggiamenti e movimenti che sono perfettamente riconoscibili dentro l'immaginario dell'iconografia antica dalle pitture vascolari con le menadi eccetera fino alle descrizioni ai brani delle metamorfosi a tutto quel patrimonio sia descrittivo che visivo che costituisce in effetti per Isadora Duncan e per tutta la sua scuola la principale sorgente quindi foto al chiuso foto all'aperto foto in movimento foto in posa foto in trio ritratti foto del corpo ci sono anche molte foto di nudo che riportano il corpo ad una centralità che la danza di Isadora sicuramente sollecitava dopodiché chiaramente Ghente diventa molto molto celebre per le sue fotografie Isadora Duncan nel 29 pubblica un libro che omaggia la danzatrice morta da due anni e raccoglie le principali fotografie che lui le ha scattato nel corso dei decenni Ghente e Duncan diventano molto amici sono insomma collaborano nel corso del tempo a più riprese Ghente è come dicevo un grande esperto a studi accademici che ha fatto in Germania un dottorato di ricerca è un filologo è un intellettuale è un collezionista di frammenti di antichità ma anche per esempio di stampe giapponesi lui viaggia in Giappone nel 1908 ed è uno dei primissimi fotografi a realizzare diciamo una serie di fotografie documentarie sia sulle persone che sui paesaggi che al tempo non si potevano fotografare liberamente se non con una autorizzazione delle istituzioni giapponesi se si era un fotografo occidentale quindi un punto di riferimento forte con cui molti danzatori e molti attori costruiscono un dialogo ma che soprattutto nel caso Duncan diventa un dialogo diciamo generativo perché la maggior parte degli attori delle attrici e dei danzatori che vanno poi nello studio di Ghente a farsi fotografare ci vanno dopo aver visto le fotografie che lui scatta Isadora e come se volessero essere trasfigurati in quello stesso stile trasformati in quella stessa dimensione visiva come se il suo stile potesse agire sui loro corpi e diciamo consegnare al pubblico un'immagine molto specifica il libro in omaggio esce nel 1929 dicevo Duncan era già morta da due anni Ghente era un fotografo famosissimo molto molto celebre per diverse ragioni e questo libro che la omaggia si apre con una introduzione di Max Eastman Eastman era un intellettuale progressista per un periodo si era legato a Lisa Duncan una delle allieve e io uso una sua piccola citazione per indicare un po' il modo in cui vengono percepite queste fotografie Eastman pensa al futuro in un certo senso pensa alle nuove generazioni e dice probabilmente questa galleria non dirà niente a chi non ha conosciuto Isadora a chi non l'ha vista danzare ci si vedranno dentro soltanto una sequenza di pose scultore è già questo interessante ovviamente si vedrà questa danzatrice in posa da Musa greca o da Menade in preda alla Pazzia ma e vi invito a leggere le ultime tre righe per chi invece ha visto Isadora danzare queste fotografie queste picture memories sono dei reliquiari dove è preservata la memoria e l'influenza benefica e curativa di qualcosa di divino che è vissuto ecco sotto questo segno possiamo cominciare a vedere quello che c'è nelle fotografie di Ghente reliquiari dove si conserva il potere curativo di qualcosa di divino che è vissuto del resto il libro si chiude con questa fotografia che è il 24 come gli studi sono numerati nel libro si chiama 24 studies questa fotografia è una fotografia ovviamente rilanciata verso il futuro c'è Isadora con una sfera di cristallo come se potesse leggere l'avvenire i presagi dell'avvenire qualcosa di assolutamente magico ma molto più concretamente è circondata dalle sei ragazze che sono le sei allievi della scuola di Elizabeth sei ragazze tedesche sono entrate nella scuola all'inizio del novecento da bambine e sono le uniche sei che poi diciamo portano avanti l'avventura coreutica di Isadora la seguono in America lei le adotta sia per dare loro il nome sia per facilitare gli spostamenti i documenti durante la prima guerra mondiale quando lei se le porta negli Stati Uniti e le incarica in qualche modo o almeno le autorizza a portare avanti dei progetti di insegnamento quindi di formare a loro volta nuove persone queste ragazze erano entrate nella scuola più o meno nel 1904 qui c'è una piccola parentesi Duncan nel 1904 è nel pieno della sua avventura tedesca sapete che Duncan è californiana arriva in Europa all'inizio del novecento proprio nel 1900 inizia a fare i primi esperimenti in giro in diverse capitali europee ottiene i primi successi proprio all'inizio del secolo a Londra e poi la prima fase veramente più incoraggiante diciamo della sua avventura è quella tedesca lei lì incontra dei referenti degli interlocutori importanti sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista della sua della crescita della sua consapevolezza ad esempio rispetto all'antico fa degli incontri importanti di intellettuali che costituiranno per lei delle guide diciamo a letture a interpretazioni tra gli incontri importanti c'è quello naturalmente con Cosima Wagner allora Duncan viene invitata a Bayreuth a danzare a collaborare ad una messa in scena del Thalnauser io ho portato qualche frammento che non abbiamo il tempo di leggere ma che sta lì così a ricordarci il primo atto della prima scena in cui è descritta la scena in cui Thalnauser giace tra le braccia di Venere e poi c'è la famosa scena orgiastica diciamo del grande delirio delle baccanti questo momento di grande eccitazione a cui sono le tre grazie a mettere pace a mettere una calma riconsegnando diciamo gli amanti spossati a questa dimensione amorosa e serena da ultimo oltre a Venere e Thalnauser restano ancora visibili soltanto le tre grazie ora esse ritrocedono verso il proscenio in graziosa intreccio si avvicinano a Venere come per riferirle della vittoria che hanno riportato sulle passioni selvagge dei sudditi del suo regno Venere le guarda ringraziando ci piace tenere a mente questa frase perché in quegli anni quando Duncan fonda la scuola in tedesca eccetera partecipa questa messa in scena e nella sua autobiografia che è un libro molto controverso in gran parte probabilmente non scritto da lei ma insomma figurano molti frammenti di aneddoti di memorie del periodo di Bayreuth parla del suo rapporto con la Cosima con la vedova del maestro di Wagner e spiega proprio il modo in cui lei cerca di interpretare proprio la scena delle tre grazie Wagner Cosima Wagner le spiega che Wagner avrebbe voluto coinvolgere dei ballerini in questa in questa scena e lei è disperata perché non può non ha allievi non ha ancora allievi non ha nessuno a cui consegnare diciamo la tecnica per rappresentare quello che lei vede nelle tre grazie e in effetti nell'autobiografia annota quello che lei vede nelle grazie queste sono le grazie che incarnano la calma il languore della sensualità amorosa soddisfatta raccontano le sue avventure le loro teste si inclinano con amore mi soffermo su questo perché vedremo che questo diventa una coreografia Duncan inizia già in questa occasione del 1904 la data che vedete sopra è la data dell'autobiografia che esce nel 27 ma diciamo questi frammenti sono annotati mentre lei lavora a Bayreuth inizia a immaginare il movimento delle grazie si deve rassegnare a consegnarlo a dei ballerini con cui lei non ha un linguaggio coreutico in comune ma vedremo questo poi diventa uno dei modelli con cui costruisce la relazione con le allieve c'è un frammento interessante proprio su questo che è una testimonianza di Mary Desti che era una cara amica di Isadora e che la accompagna a Bayreuth ed è con lei per tutto il periodo ci sono dei momenti in cui loro devono guardare la scena allora Isadora chiede all'amica di simulare i suoi movimenti sul palco la guarda danzare e c'è una scena che Mary Desti racconta in cui Isadora diciamo resta scioccata dal fatto di vedere la sua imitazione lei vede Mary Desti in scena che simula i suoi movimenti e veramente viene presa da una specie di crisi perché pensa che non potrà mai insegnare non potrà mai fare altro che essere imitata in realtà proprio in quegli anni comincia a lavorare soprattutto attraverso sua sorella sulle ragazze su queste allieve e le quali in effetti assumono posture posizioni che sono identiche a quelle di Isadora e qualcuno nella critica dirà che loro saranno in grado di trasmettere in effetti solo la forma e non la sostanza di quello che Isadora incarnava e allora veniamo al soggetto il soggetto di questa fotografia di Kent sono tre delle ragazze tre delle pupille tre delle allieve qualcuno le ha definite con un nomignolo intelligente le Isadorabili le ha definite così in francese Isadorables funziona anche in inglese Isadorables funziona anche in italiano di fatto queste ragazze cominciano ad andare in scena da ragazzine intorno a Isadora e piano piano crescono diciamo e partecipano ai suoi spettacoli lo scrittore che da loro il nome il nomignolo le Isadorables è Fernand Divoire che è un osservatore attento della Duncan un amico uno scrittore un diciamo critico che scrive di lei a più riprese ed è quello che ci dà per esempio la descrizione più accurata di uno spettacolo importante che Isadora fa a Parigi nel 13 dedicato all'Orfeo in realtà l'Orfeo era nella sua diciamo in repertorio diciamo così già da anni e poi lo sarà ancora in futuro fino al 1920 però nel 13 lei fa un Orfeo molto famoso perché come nel tentativo di rimettere insieme gli elementi della tragedia greca ci sarà insieme alla danza e alla musica è un Orfeo costruito sull'opera di Gluck insieme alla danza e alla musica ci sarà anche la parola lei coinvolgerà un famosissimo attore tragico che si chiamava Monet Sully a leggere dei frammenti di testi antichi mentre lei danza e poi c'è una conferenza iniziale in cui c'è un famoso esoterista Pelladon che spiega i significati esoterici e misterici dell'antica tragedia e di come Duncan sia come dire la sacerdotessa nella modernità bene di guarci da scrivere un articolo su questo Orfeo dove c'è una descrizione molto accurata ed è interessante che da subito descrive queste ragazze alla stregua delle figure botticelliane delle figure dell'antichità e la caratteristica che le contraddistingue è questa grazia gioiosa in un certo senso e poi descrive anche un finale che è interessante per noi non avremo il tempo di andare in quella direzione ma lo pongo come uno dei problemi perché Divoar racconta che dopo lo spettacolo tutti in piedi tutti in grande visibilio per Isadora per queste giovani ragazze tra gli applausi le persone cominciano ad andarsene e Isadora e le ragazze non smettono di danzare non smettono non smettono tornano in scena durante gli applausi e poi si prendono per mano e iniziano un giro tondo come riportando la danza a una dimensione non legata necessariamente allo spettacolo e alla rappresentazione ma piuttosto un momento di gioco rituale un momento festoso a cui il pubblico continua ad assistere però non più nel ruolo passivo dello spettatore ma come vedendo la danza che deborda dallo spettacolo diciamo che deborda dalla performance probabilmente era anche una cosa diciamo tipica di Isadora che si godeva gli applausi fomentando il pubblico ancora e ancora con le sue apparizioni grazie anche a queste ragazze giovanissime che come dire rendevano molto fresche le sue scene ispirate ispirate all'antico allora queste sono le ragazze sempre fotografare da Ghente vi voglio far vedere queste fotografie che sono quelle che si trovano poi nel fondo di Arnold Ghente anche un po' che tipo di destinazioni hanno per esempio quella a sinistra è la foto originale molto rovinata eccetera quella a destra è una copia che figura in un fondo d'archivio che ho consultato di recente a Parigi che è il fondo Lisa Duncan cioè è il fondo d'archivio con le carte di una delle allieve una delle sei allieve il fondo Lisa Duncan è pieno di opuscoli frammenti locandine che testimoniano della sua avventura di maestra negli anni successivi alla morte di Isadora lei aprirà una scuola a Parigi peraltro al teatro dell'Atene cioè nel teatro diretto da Jouvet quindi entrerà nel tessuto della cultura teatrale parigina degli anni 30 ed è interessante che queste fotografie vengono subito rintitolate le tre grazie vengono subito sia in archivio sia nell'uso che ne fanno che ne fa Lisa quando le mette sulla sulle sue brochure sui suoi opuscoli vengono subito definite come le tre isadorabili in questo caso Margot Anna e Lisa nelle vesti nei panni delle tre grazie ancora e non piccolo programma di sala la cui copertina sono sempre tre è un disegno una pittura con tre grazie diciamo anche quella in una versione tutta moderna però vediamo che nei programmi figura sempre questa coreografia le tre grazie questa è una coreografia che Isadora in effetti sulla base di quella prima esperienza wagneriana diciamo consegna alle tre alle sue alliene alle ragazze la porteranno in scena molto a lungo e quello che è veramente interessante è che la consegneranno via via sempre alle generazioni successive è costruita sono pochi minuti di coreografia costruite su una su una sonata di Schubert e nella scusate ve la faccio ve la faccio vedere in versione video in una versione degli anni 70 addirittura del 1979 in una versione della compagnia che si chiama Isadora Duncan Repertory Dance Company che è diretta da Sylvia Gold che era stata in effetti un'allieva di Elizabeth Duncan e poi di Anita Zahn una delle più importanti diciamo figure di trasmissione della generazione successiva e poi di Irma Duncan che a sua volta era una delle sei allieve quella a cui Duncan affida la direzione negli anni 20 della scuola aperta invece in Russia allora la descrizione che fa Duncan all'inizio di questa piccola danza in cui le teste delle grazie si inclinano con amore da una parte e dall'altra è assolutamente riprodotta in questa formula fisica che diventa una delle poche coreografie di repertorio che porta la firma di Isadora la quale come sappiamo non era esattamente una coreografa non era una danzatrice che costruiva delle partiture trasmissibili in senso formale era piuttosto la fondatrice di una grande cultura coreutica in cui la tecnica aveva un ruolo importante ma che non era certo lo snodo della della trasmissione allora le tre ragazze che avanzano che poi fanno il cerchio corrispondono proprio a moltissime descrizioni prima tra tutte quella di Wagner che prima abbiamo fugacemente letto nel primo atto la scena prima del Tannhauser questo è un video del 79 le riprese in bianco e nero e così da lontano lo fanno sembrare un video vecchissimo queste le condizioni di questi materiali sono tra i principali motivi di errori e malintesi per cui qualcuno qui vede le allieve dirette di Isadora invece siamo almeno tre generazioni tre o quattro generazioni dopo nel senso che addirittura Silvia Gold non figura tra queste tre ragazze ma è la coreografa la maestra di queste danzatrici assolutamente moderne in un certo senso allora arriviamo alle formule quella delle tre grazie evidentemente nella cultura d'Ancan e nel repertorio visivo di Ghente non è solo una formula figurativa visiva non è solo una formula filosofico culturale ma diventa una formula fisica una dimensione del movimento corporeo quella delle grazie come coreografia naturalmente si porta dietro tutta una serie di impronte diciamo così che sono impronte molto diverse tra di loro perché c'è la dimensione statica delle tre grazie come appaiono nell'antichità poi c'è la dimensione del cerchio che è decisamente più botticelliana e poi c'è la dimensione del salto che come vedremo è un po' la nostra destinazione la messa in moto di questo modello è evidente che il quadro di Botticelli costituisce una delle principali sorgenti ma non ci vuole neanche troppa immaginazione nel senso che nella sua autobiografia Duncan ne parla a lungo spiega della sua impressione appena arrivata in Europa una delle prime cose che ha fatto è stare ad andare in Italia viaggiare in Italia vedere il patrimonio botticelliano che in quegli anni era come dire una tappa obbligata un repertorio visivo obbligatorio per chi si occupava di arti sia visive che performative ci sono moltissimi danzatori che ne parlano anche Moe Dallan per esempio in un'autobiografia del 1908 racconta della prima volta che ha visto questo quadro Moe Dallan di questo quadro dice proprio che quello che la ispira di più è il vento in un certo senso questa capacità delle figure di essere mosse come dall'esterno Duncan sarà colpita di più da altri aspetti sicuramente da un movimento invece interno e poi dagli aspetti di queste grazie e anche dalla primavera dalla Venere che qui non si vede di essere gravide cioè di essere proprio le portatrici diciamo di vita quindi tutta una concezione dell'amore che sappiamo bene che su questo quadro insomma sono state fatte delle interpretazioni importanti dubito che Duncan leggesse Marsiglio Ficino certo è che in qualche modo l'idea di un passaggio che è quello che avviene dall'antichità rinascimento di una attribuzione di significati esoterici magici astrologici alle tre grazie non doveva esserle del tutto estranea perché veramente per loro il cerchio è un cerchio magico queste sono per esempio delle allieve di Irma Duncan che invece Ghente riproduce esattamente nella postura più tipica descritta da Seneca con una donna di schiena una di profilo una di fronte che è la circolazione nel dare nell'avere e nel ricevere quindi diciamo nel campionario di Ghente e nel campionario nel repertorio gestuale delle generazioni Duncan queste sono allieve di Irma quindi siamo negli anni 30 questo impulso questa raffigurazione non solo si conserva nei corpi delle danzatrici di diverse generazioni ma genera evidentemente partiture di movimento vedete che i costumi cambiano in qualche modo cambia anche lo stile fotografico si vedono le ombre c'è qualcosa di meno pittorico nella fotografia di Ghente degli anni 30 eppure questa formula sopravvive nei corpi come passando attraverso una trasmissione diretta questo è un esempio plateale è un disegno di Canova e una delle tantissime fotografie di Ghente in esterno che riprendono le allieve di Elisabeth o di Irma vicendevolmente sempre in questa configurazione con un velo in trio a volte in quattro ma quasi sempre con questa formula visiva che diventa esplicitamente una formula coreografica coreografica l'ultimo step di questa mia scomposizione è quella sulle forme la distinzione tra forme e formula è una distinzione gli studi di Warburg è molto esplicita molto forte uso entrambe le parole senza addentrarmi ma restituisco almeno questo è il mio desiderio la dimensione delle forme una qualità molto specifica ad esempio una delle forme di cui è portatrice la foto che sto scomponendo è la forma del loro abito è il panneggio che loro si portano questa è la famosissima tunica di Delphi come veniva definita come era stata definita quando è stata brevettata a Parigi nel 1907 da Mariano Fortuni Fortuni era come il noto un designer è molto limitativo descriverlo in poche parole ma è stata una figura sia nella moda che nel teatro che nelle tecniche di illuminazione molto molto importante questa tunica è diciamo l'interpretazione dell'abito che porta questo Auriga di Delphi a scultura del 475 a.C. e ha le stesse caratteristiche la cintura le pieghe plissettate soprattutto è molto famoso il plissettato che scendono fino ai piedi erano delle tuniche costosissime di cui queste tre allieve Duncan diventano le modelle perfette perché sono naturalmente portatrici di una cultura dell'antico perfettamente incastonata dentro a questa dimensione io mi sono soffermata sui piedi che sono secondo me una caratteristica specifica del modo in cui cade questo abito ma non sono stata l'unica a notarlo a proposito di forme di ritorni e di sopravvivenze mi piace chiudere questa carrellata con una immagine con un confronto tra le due immagini quella a sinistra è l'immagine che stiamo guardando e quella a destra è un'immagine molto moderna sebbene la tecnica di realizzazione sia una tecnica antica analogica la foto è di Sarah Moon nel suo meraviglioso omaggio a Mariano Fortuni che è in realtà un servizio fotografico che lei fa a Palazzo Fortuni a Venezia e che è diventato un libro pieno di panneggi pieno di onde pieno di ritorni in qualche modo di questa raffigurazione che noi possiamo salutare soltanto con una citazione importante di D.D.Uberman quando nel libro dal titolo assolutamente esaustivo per la chiusura di questa carrellata Ninfa moderna assaggio sul panneggio caduto la versione originale del 2002 scrive di Ninfa di questa figura di Warburg scrive di come Ninfa sia riconoscibile da questo passaggio degli accessori in movimento i capelli i panneggi al vento e scrive Ninfa diventa la passione dominante del fondatore della storia moderna dell'arte la vede incessantemente riapparire e ritornare in ogni luogo affascinante come la memoria il desiderio e come il tempo stesso memoria desiderio tempo Ninfa percorre gli oggetti dell'arte warburgiana con un organismo enigmatico eroina molteplice dalle straneità inquietante ci dà in dono le somiglianze nascoste dove improvvisamente tutte le epoche danzano insieme e tutte le incarnazioni possibili si mescolano come in un sogno grazie e scusate se mi sono credo almeno 5 minuti allungata forse meno di quello che temevo visto che tocca a me cucire i fili di tutto esco dal panneggio e saluto con grande gioia Simone Azzoni che ci ha raggiunto credo sì Enrico Fedrigoli che diciamo presento con poche parole sono sicura che dal loro dialogo emergeranno alcuni aspetti importanti del loro dialogo che non si limita a questi 30 minuti ma che è un dialogo che ha visto poi delle pubblicazioni un confronto che è stato pubblicato dei momenti importanti di restituzione di questo scambio di sguardi tra uno storico della cultura visiva un critico d'arte un esperto di fotografia quindi uno studioso che viene da una dimensione più visuale diciamo e un fotografo che come dire rispetto a questo nostro discorso sul corpo dell'immagine sulla fisicità dell'oggetto fotografico sulle tecniche di produzione dell'immagine diciamo è un testimone straordinario Fedrigoli è stato diciamo un fotografo di tantissime compagnie soprattutto dell'area dell'Emilia Romagna del teatro e della danza di ricerca ha collaborato di recente con Paola Bianchi dei fili che si intrecciano ma non l'unica ma una delle caratteristiche che mi piace sottolineare è che la maggior parte delle sue fotografie sono realizzate con un banco linoff 10-12 se non sbaglio quindi in banco ottico quindi con una tecnica analogica e direi proprio con una specie di meccanismo della visione non solo della realizzazione dell'immagine ma della visione che è completamente diversa dagli oggetti dagli strumenti fotografici che generano altro tipo di immagini quindi scatto unico all'astra corpi mobili del banco ottico il banco linoff ha delle caratteristiche specifiche non mi addentro troppo nelle questioni tecniche ma chiunque di noi conosce un po' la fotografia la strumentazione fotografica sa bene che guardare attraverso quella macchina vuol dire fare un tipo di esperienza della visione produrre quel tipo di immagini vuol dire restituire un tipo di esperienza e soprattutto guardare il teatro attraverso quella macchina chiaramente crea quella che noi in un certo senso in un altro frammento del nostro cliente abbiamo chiamato una camera meravigliosa vi lascio la parola direttamente trapolando da una serie di incontri che poi sono diventati altro o le restituzioni di cui Samantha parlava una frase mi aveva colpito di di Ermanna Montanari quando le chiesi di di esprimere di raccontare il lavoro di Enrico e su questa vorrei ascoltare la parola di Enrico quando mi disse che Enrico in realtà vede quello che noi spettatori non vediamo e le avevo proprio specificamente chiesto ma se mi sedessi accanto a lui in teatro che cosa vede lui e che cosa non vedo io questo primo spunto appartiene ad un primo grappolo di domande che ruotano proprio attorno alla disciplina e al meccanismo alla meccanica della visione del teatro poi interverrò con lui per quanto riguarda il rapporto con l'attore quindi il ruolo della maschera e come poi Enrico esce dalla scatola scenica perpetrando la finzione della macchina fotografica e dell'immagine sulla finzione già in atto nella relazione attore personaggio e persona e poi infine ritornando e chiudendo questo cerchio che aveva aperto Paola Bianchi prima agli aspetti compositivi dell'immagine anche perché Enrico non arriva direttamente dalla fotografia di teatro ma da quella di architettura e quindi l'impianto poi compositivo estremamente forte credo che balzi immediatamente agli occhi ecco allora su ciò che Enrico non vede ti volevo chiedere Enrico che cosa secondo te intendeva Ermanna Montanari e che cosa quindi vedi tu rispetto alle dinamiche che accadono sulla scena che di fatto ripropone poi le forme dell'inquadratura del tuo strumento Buongiorno buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità in realtà quello che io vedo è quello che io scruto che devo cercare di far emergere attraverso delle tecniche una tecnica che è la lunga esposizione un'altra tecnica può essere il vedere e il ragionare come una pellicola il mio cervello non ragiona più come uomo come uomo pensante rispetto a quello che deve fotografare ma a volte si istituisce alla pellicola e dico io pellicola in questa situazione di buio estremo come dovrei fare e allora mi metto in relazione col gioco il tempo tempo esposizione e apertura in questa maniera riesci a scavare andando fuori da tutti i parametri canoni della fotografia di scena normale riesci a scavare e quindi riesci a vedere quello che l'occhio normalmente non vede in poche parole nell'inquadratura l'oggetto sto parlando anche da un punto di vista compositivo si colloca al centro di un interesse quindi di una di una selezione mi chiedo che cosa intenzionalmente o non intenzionalmente di fatto sfugga al tuo sguardo non in quanto sia fuori dalle quinte quindi relegato fuori dalla scatola del tuo banco fuori dalla scatola scenica ossia alle tue alle tue spalle se poi parleremo anche del corpo del fotografo nella o accanto alla rappresentazione teatrale ma che cosa sfugga al tuo interesse fotografico alla tua intenzionalità fotografica quindi ritornando a quello scenario che dicevo prima se mi sedessi accanto a te io forse potrei cogliere degli aspetti narrativi e tu dei particolari legati agli oggetti o ad aspetti compositivi che non riguardano la narrazione di quanto sta accadendo ma una sorta di natura morta interna ad un altro contenitore ecco che cosa sfugge intenzionalmente o meno al tuo sguardo proprio perché è lo sguardo di un fotografo nella durata nella durata nella scansione durevole di uno spettacolo intanto devo fare una premessa che il mio cervello è un rettangolo formato da da un lato di 10 e 2 per 12 e 7 centimetri diviso in quadrati da un centimetro quindi non mi preoccupo di di quello che c'è fuori campo di quello che ho dietro le spalle o che ho i lati ma la mia visione è quella lì dopo quello che mi sfugge quello che intenzionalmente o non intenzionalmente mi sfugge vado a riprendermelo per mescolarlo con quello che non mi ha sfuggito è un po' un gioco caridoscopico questo ha a che fare anche con la verticalità quando mi hai detto se mi sedessi vicino a te cosa succede succede che io vedo la verticalità vedo non vado la drammaturgia a questa cosa sto parlando di immagine e l'immagine per me è una verticalità soprattutto nel teatro nel teatro ci deve essere un peso che cade che cade sulla scena ci deve essere i pesi devono essere fatti giusti devono essere equilibrati giusti senza sentimentalismi perché così così facendo per mio conto quando sono dentro la scatola la scatola che è il banco ottico deve far funzionare tutto deve funzionare tutto e funziona se c'è un ragionamento ben preciso se un peso va in un posto un peso in un altro un movimento ha una certa direzione che può essere diagonale o orizzontale tutto deve collimare in poche parole il sentimentalismo arriva dopo ecco nella complessità dei segni che una scena o che un'evoluzione narrativa dello spettacolo ci propone la luce per te è assolutamente un elemento generativo quasi ontologico rispetto alle figure che compaiono sulla scena di memoria cantoriana esserci e non esserci dipende evidentemente dalla luce da un punto di vista tecnico qual è la luce che ti consente di dare o di togliere vita a ciò che appare in forme epifaniche sulla scena emergendo ancora una volta allora devo dire devo dire una cosa che la luce non è determinata da me non è determinata da me non è fatta da me ma è il regista che fa la luce è chi si occupa della regia della scenografia e via dicendo è la luce che mi dà la direzione stessa è lei che mi dice cosa devo far emergere o meno è un po' l'inverso del discorso della domanda che mi hai posto la luce stessa mi dice dove devo andare perché perché quella luce lì non l'ho decisa io ma la decide chi fa le scenografie e chi fa le regie e questo è importante ma mi devo adeguare io alla luce non prendere la luce e far emergere quello che mi interessa è la luce che mi dà le direzioni che mi comanda in poche parole ci vuoi fare un esempio anche su su uno spettacolo non vorrei ritornare sul teatro delle albe ma mi viene comodo questo esempio di un'ermana montanare che scompare dietro dei geroglifici grafici e quindi la difficoltà poi di cogliere qualcosa che per lo strumento che adoperi è miracoloso un discorso base è questo che quando io devo decidere quando decido di fotografare o di riprendere una scena o una una performance di quel tipo di quel tipo lì oppure come nel caso del si riferisce a fedeli d'amore mi sembra Simone Assoni praticamente il tuo corpo deve entrare in scena ma in scena fisicamente in scena fisicamente e devi andare a scavare a scavare con i tempi di esposizione lunghe con tutti i strumenti che hai vai a scavare quello che l'occhio non riesce a percepire nel senso mi spiego meglio che se io devo riprendere una scena normalmente di visione da spettatore con non so due secondi di esposizione andare a scavare vuol dire lavorare con un minuto due minuti questa questa cosa è permessa perché chi ti sta davanti all'obiettivo Romano Montanari o anche altre attrici hanno veramente una simbiosi con quello che stanno facendo che riescono a star ferme per tre minuti anche a non battere il ciglio e questo ti permette di scavare nelle ombre dove di scavare 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 e più scavi più leggi in poche parole è chiaro che si sta definendo anche che cos'è la fotografia di teatro per te sulla scia sulla scia storica dei maestri che ti hanno preceduto ti chiedo ulteriormente nell'evidenza che la tua fotografia non è la documentazione terminale di un processo creativo ma è parte integrante di questo processo creativo da una parte se ce la vuoi declinare in un aneddoto di quando ecco il tuo lavoro è stato all'inizio e alla fine del processo creativo non so penso al lavoro con Angelis con Fanny Alessander ecco come si intreccia con la creatività del regista l'immagine precedente durante e finale e quindi continuativa di un ulteriore processo creativo ecco la possiamo collocare in un'attività strana no? al lavoro teatro allora parliamo di un lavoro che ho fatto un bel po' di anni fa è Gio Gaborus Fanny Alexander dove non c'era non c'era niente praticamente l'abbiamo fatto in Belgio doveva fare le audizioni con tre danzatori ecco questo allo Stuck di Leuven e cosa è successo lì? che non c'era non c'era testo non c'era non c'era niente io dovevo fare delle immagini che documentassero questi tre danzatori cosa ho fatto? mi sono riferito alla scultura neoclassica alla scultura pompeiana greco-romana e ho lavorato con questi tre danzatori con le movenze che Luigi aveva dato come indicazioni per le audizioni in poche parole abbiamo prima costruito il lavoro la struttura dei movimenti danzatori e poi è stato fatto lo spettacolo le foto le foto dello spettacolo sono quelle lì in poche parole c'è una parte solo di documentazione dello spettacolo stesso però che non è mai stata vista da nessuno e questo è un caso dove prima sono state fatte le immagini e dopo è stata realizzata l'opera teatrale e dopo negli altri casi nei casi normali che si fanno durante il corso dei lavori il regista mi dà delle linee guida le linee guida che devono essere dei punti nodali dove deve essere espressa la tale scena il tale movimento e via dicendo dopodiché da queste linee guida rappresentano lo spettacolo diciamo e dopo io mi sposto vado e prendo altre direzioni interpretative che possono essere slegate slegate visivamente dallo spettacolo perché non è che mi interessi documentare mi interessa prendere mi interessa mi interessa nutrirmi dell'opera teatrale per realizzare delle immagini che possono essere a sé stanti quando è che questo nutrimento lo reputi saziante nel senso se la tua costruzione è un mosaico di frame quando è che ritieni che il tuo progetto ha raggiunto l'ultimo tassello e quindi che possa essere licenziato come aperto terminato finito almeno relativamente al processo creativo del regista che lo ha accompagnato quando senti che è finito il tuo lavoro quando è terminato un segmento temporale quando è terminato un incontro un'esperienza di incontro con la compagnia quando in camera oscura hai detto un certo numero di scatti quando è che è archiviabile il tuo lavoro allora questa è una domanda veramente imbarazzante per me perché proprio non è il mio lavoro non è mai archiviabile io sono ossessionato continuerei proprio allo sfidimento un lavoro non è mai finito può durare anche dieci anni però cosa succede che non si può non si può fare una cosa del genere una volta una volta stabilito i punti nodali dell'opera che devono essere fissi per far vedere l'opera a un certo punto coscientemente quando sono in camera oscura devo dire basta devo dire basta è una stanchezza fisica è un cerchio che si chiude perché il mio cerchio si chiude a un certo punto come tutti i cerchi devo dire basta e a quel punto lì è finita però sempre sempre quando si hanno fatto le immagini che servono per far vedere il lavoro dopo di questo si lavora lavoro come ho detto prima per le mie i miei nutrimenti psichici diciamo e a un certo punto devo dire basta c'è un qualcosa un qualcosa un qualcuno che mi dice stop e li smetto le immagini come abbiamo ascoltato prima sono per chi co-crea insieme a te impulso e anche destinazione riprendendo quanto sottolineavi prima sull'essere dentro mi interessa questa presenza che può essere addirittura fuori dalla scatola fuori addirittura dalle le cose come mi raccontavi in uno dei nostri incontri ti chiedo se c'è una posizione culturale del tuo punto di vista che rispecchi quella della tradizione prospettica o piuttosto di una dispersione di punti di vista che si riflettono l'uno nell'altro ti chiedevo se è una scelta dettata puramente da un'indicazione che arriva dall'esperienza del momento se ti posizioni invece virtualmente accanto ad un punto immaginario nella platea che diventa poi il punto di fuga della scatola ecco se c'è un progetto nella posizione che scegli come corpo come corpo di Enrico intendo per la rappresentazione allora premetto una cosa io non non vengo dalla fotografia di scena vengo dalla fotografia di architettura quindi ho iniziato prima ad interessarmi a fotografare l'architettura delle scenografie poi sono andato dentro sono andato dentro a mettere gli uomini gli chiamo uomini come in un plastico che sono gli attori poi sono andato dentro l'architettura del corpo all'architettura del gesto e il volto però sempre con la con la rigidità con la rigidità e le proporzioni dell'architettura sui terzi sul 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 peso sul peso che deve essere un soggetto deve essere un terzo o un sesto di tutto il fotogramma che non è fotogramma ma è un'area non le considero come pellicole le considero delle tavole in poche parole anche perché su queste tavole posso fare dei doppi fondi posso impressionare una cosa poi impressionare un'altra sopra per dare modo a chi lo vede per esaltare diciamo esprimere al massimo quel lavoro lì a volte faccio mangiare dei pezzi di scenografie virtualmente chiaramente nell'immagine dell'attore dell'attore spalanca la bocca e ha un pezzo di teatro dentro per assurdo questo mi serve questo mi serve per far capire il lavoro e quello che voglio dire quello quello che vuole esprimere quello che quello che cerco quello che cerco di tramutare in immagine tutta la drammaturgia che c'è nel lavoro che sto fotografando però sempre l'architettura è il virus che mi conduce per tutte le mie immagini e il rigore è quello infatti lo strumento che ho scelto per lavorare è proprio uno strumento pesante in tutti i sensi pesante pesante dal punto di vista del peso e pesante dal punto di vista che non vedi non vedi quasi niente quando sei in teatro che lavori devi avere l'immaginario il tuo cervello deve essere dieci due per dodici sette diviso in centimetri in quadrati da un centimetro quindi l'architettura è quello che mi dà le direzioni che mi dà tutto all'interno di questa architettura si muove si muove l'attore ti chiedo ecco se del suo movimento ti interessa di più appunto l'aspetto dinamico del movimento quindi l'azione la figura cioè il rapporto del movimento con il contesto oppure l'aspetto volumetrico di questo movimento quindi la sua declinazione scultorea la tridimensionalità mi interessa molto l'aspetto dinamico sempre in relazione allo spazio entro il quale deve muoversi quindi c'è deve essere una relazione ben precisa mi interessa l'aspetto scultoreo anche nel caso dipende anche da che lavoro stai facendo da che tipo di lavoro stai facendo mi interessa molto l'aspetto scultoreo perché architettura scultura fotografia hanno una una dominante comune che è l'immagine l'immagine che per me è la percezione che il nostro cervello ha rispetto a quello che ha davanti la percezione chiusa in un rettangolo chiusa in un quadrato la percezione che si ha quando si lavora in teatro quindi non è che ci sia una una scelta preferenziale nel senso che se se devo lavorare con performance devo avere proprio i movimenti che mi danno le direzioni sulle diagonali dico banalmente che a volte mi capita così come se no se invece è una cosa statica scultoria devo avere devo avere veramente la percezione della scultura e della staticità in quel in quello spazio lì dipende molto da che tipo di lavoro sto facendo e da con quale compagnia o attrice o danzatrice sto lavorando quello è importante in alcune situazioni prevale la scultura in altre l'architettura in altre il movimento in altre tutti e tre combinati assieme ecco a proposito di tre elementi combinati assieme ti propongo un altro un altro triduo volto ritratto e maschera qui c'è c'è Paola che ci ascolta ma potrebbe ascoltarci Fiorenza Menni piuttosto Consuela Battistone Nancy ci ha detto poco tempo fa poco tempo fa in quella meravigliosa mostra su su Al Mart il ritrarsi del volto alla possibilità della sua rappresentazione dove quel ritratto sta diventando inesorabilmente un participio passato ecco ti chiedo dove si ferma questo ritrarsi questo scomparire dei volti questo andarsene dei volti per ritornare da Maria Angela a Gualtieri riesci a ricucirla ecco questa perdita fermandoti sulla maschera sul ritratto sul cosa ti interessa di più dell'attore allora sì mi dispiace non far vedere delle immagini che ho fatto con Federica Fracassi perché le immagini che ho fatto con lei sono il sunto di due e tre le cose cioè il ritratto mi serve per costruire la maschera del ritratto che sto facendo cioè il volto che sto ritraendo mi è anche lo spunto per fare la maschera dello stesso volto è una simbiosi anche quella è molto forte a volte nei ritratti che faccio il soggetto ritratto si toglie o si mette la maschera che è il suo volto stesso è quella la cosa che mi intriga più di tutti ogni ogni volto è maschera di se stesso e ogni maschera ha un volto con le parole quando porti l'attore fuori dal teatro lo porti nel tuo studio e prosegui con intenzioni teatrali la finzione della scatola ecco che cosa cerchi in questa in questa ricreazione ecco del fake in questa ricreazione della location in questa ricreazione dell'ambiguità tra personaggio e attore penso ancora una volta al lavoro di Confiorenza Menni tra le cave di Sant'Ambrogio ecco cioè questa questo trascinare l'attore allargando le porte del teatro a dimensioni paesaggistiche urbane è molto interessante questa domanda qua perché una volta preso l'humus dal teatro cioè porto fuori l'attore cosa succede? io sono sempre sono sempre in conflitto con me stesso quando fotografo il teatro fotografo la vita quando fotografo la vita fotografo la vita del teatro è una cosa che si mesca a me interessa lavorare molto con gli attori perché anche al di fuori dai loro lavori dalle loro rappresentazioni c'è sempre una sorta di 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 congiunzione tra le due vite la vita d'attore e la vita e la vita da persona che sono le stesse cose per me è quello che mi interessa che mi interessa allora ho pensato di portare fuori dal teatro di portare fuori degli attori a fare dei percorsi che si parte sempre da opere teatrali da gestualità che sono in opere teatrali però si arriva dopo a un'altra cosa che è la vita vera che si è mescolata con quella iniziale della vita di attore e questa è la cosa che mi intriga molto portare fuori portare in studio come facevano i fotografi nell'ottocento che fotografavano gli attori allora li fotografavano portandoli in studio e facendoli fare per esaltare le loro movenze i loro gesti li portavano in studio non era fatta in teatro la foto di teatro era fatta in studio fotografico e questa è proprio la questione che mi intriga di più quel sottile passaggio che c'è tra la vita vera dentro la scena perché ogni opera è un pezzo di vita perché gli attori si vedono sono carne viva voce pensiero gesto e tutto e la vita la vita quotidiana ed è il lavoro che ho fatto con Federica Fracassi che ho accostato sulla stessa lastra lei nelle sembianze di attrice con i costumi di attrice e lei invece vestita normalmente mi è risultata un'attrice anche nella vita quotidiana è quello che cerco insomma che mi intriga molto della questione attoriale il portare fuori quindi non c'è un fuoricampo che non sia inattivo il fuoricampo è comunque un'area sensibile nella quale possono accadere cose che iniziano altro il movimento il movimento Enrico non è non è una scia futurista non è una scia ma è un insieme ma è un insieme di scomposizioni e ricomposizioni vuoi entrare in questa in questa dinamica che solo apparentemente ecco ha le forme di una di una scia apparentemente questo è il termine esatto apparentemente perché quando penso al movimento penso a Muybridge penso a Muybridge che ha fatto l'uomo che scende le scale il cavallo e quelle cose lì la scansione dei vari frame tra un'azione e un'altra che non è scia è un cambiamento un cambiamento di direzione di pensiero praticamente che passa magari un secondo è lo stesso in quel secondo lì sono successe un sacco di cose e sono successe non succedono per sia ma succedono perché perché uno cambia 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 espressione cambia cambia tra un tra un girarsi a destra e mettersi a frontale ci sono dei frame che ti fanno capire che l'espressione e la gestualità dell'attore cambia qual è Enrico il momento più densamente espressivo all'interno di una parabola temporale mi rifaccio a una definizione di Grazioli sul presente il presente è l'attimo che ha la massima previsione del futuro e la massima estensione di memoria proveniente dal passato qual è l'attimo che scegli sapendo che poi l'espressività si depotenzierà di carica espressiva avendone accumulata mi ha sorpreso una risposta che mi avevi dato tempo fa su questo perché non è forse il balzo il balzo della tigre ma è la sua caduta quindi è qualcosa che ha a che fare con il rilascio vero allora per me il momento massimo è proprio è uguale in una parola potrei esprimere tutto si chiama stanchezza nel senso che quando ci sono ore e ore di lavoro di stare in posa si arriva a un'immanenza tale che l'attore o attrice che sia sono veramente se stessi nel momento di stanchezza che devono fare quella cosa lì perché deve essere rappresentata sono lì per farsi rappresentare perché per fare delle immagini e nel momento il momento proprio clou è quando sono scusate il termine sfatti sfatti dalla stanchezza e sanno che devono fare che devono fare quella cosa quella cosa che devono fare in poche parole quell'azione o quel gesto o quello gesto che si erano prefissati di fare in quel momento lì in quel momento lì c'è la massima la massima tensione e la massima espressione perché sono scevri non pensano mai a quello che a quello che sta davanti alla macchina a quello che sta dietro la macchina fotografica non pensano mai questo ma pensano solo a fare a fare questa cosa e finirla in quel momento lì c'è la massima espressività per me e ti chiedo un'ultima cosa per rimanere nella mezz'ora che c'è stata data ed è forse anche un modo per proseguire quell'archivio che negavi che negavi all'inizio quello che ti propongo forse è un archivio immaginario chiedendoti che cosa vorresti che lo spettatore proseguisse dall'osservazione autonoma delle tue immagini quindi puro dalla visione dello spettacolo davanti alla tua immagine che tipo di innesco chiedi allo spettatore ma io generalmente non non chiedo niente perché sarei molto molto dadaista di pensiero nel senso che piccabia sotto i suoi quadri ha scritto una volta capiteci quello che volete però non voglio essere così estremista io chiederei solo chiederei mi piacerebbe che ne traesse un beneficio visivo proprio un beneficio proprio sulla sulla visione che faccia piacere vedere queste cose e poi potrei un po' modestamente potrebbero essere anche oggetti di studio ecco quello ma modestamente non pretendo niente io quello che mi interessa è fotografare e non mi sono mai preoccupato di far vedere le cose oppure di veicolarmi perché non c'è tempo il tempo è poco e non ho né 30 né 40 né 50 anni ecco quindi non ho più tempo di pensare a quelle cose lì se uno viene e vuole vedere venga pure non ho problemi anzi mi fa piacere ma è proprio una questione di tempo per me e vorrei solo che magari non so si intrigasse a capire come viene fatta l'immagine perché quello che determina molto molto le mie immagini è lo strumento che uso che determina il modo di lavorare il modo c'è uno spirito diverso lavorare con un banco ottico che non con una 35 milioni o con una digitale addirittura che per me è il demonio diciamo vorrei che mi chiedesse l'artigianalità la stampa e soprattutto vorrei che toccasse le stampe toccare le stampe è un'emozione che si è persa secondo me da quando verso fine anni 80 la Minolta ha presentato le prime macchine digitali la materia quello è importante è molto importante la materia vorrei che avesse voglia di toccare la stampa di sentire di cosa è fatta anche perché un nero non è un nero no? eh sì i neri i neri sono i neri ce ne sono di non so quante migliaia di tipi c'è il nero che avvolge il nero che ti sputa fuori soggetto il nero che te lo assolve il nero che ti aggrazia il soggetto il nero che ti ambrubbidisce l'immagine c'è una questione e il nero viene costruito con le mani io lo costruisco con le mani il nero non ho un computer non faccio niente non so neanche cosa sia sono davanti al computer e devo chiedere alla mia moglie se me lo rialbia quando mi va in stand by quindi sono veramente del secolo scorso maggior ragione Enrico grazie perché hai scelto la fotografia proprio per esprimerti attraverso quello e solo secondariamente attraverso la parola io mi scuso per le mie se non sono state ecco all'altezza del panel o non squisitamente tecniche o accademiche il mio intento era quello di creare un nido attorno ad Enrico perché si potesse esprimere e potesse appunto raccontare in forma di esperienza il suo lavoro qui c'è ancora Paola Bianchi e prima abbiamo ascoltato di questi engrammi dell'immaginario credo che Enrico stia lavorando con lei proprio sulla sulla saliera a proposito di memorie dall'immaginario che si come tracci e grazie ancora Samantha per la pazienza e a chi ha avuto ecco il tempo per ascoltarci strappandolo agli impegni familiari e al lavoro grazie ancora siamo noi che ringraziamo voi moltissimo sono invece emerse alcune cose secondo me insomma io mi limito poi a fare come dire l'evidenziatore a sottolineare e evidenziare delle parole che mi piacerebbe si depositassero e che guidassero anche l'ascolto di quello che viene dopo e il ripensiero su quello che veniva prima Enrico ha detto una cosa che per chi ha una esperienza performativa è abbastanza cruciale e anche molto intima che è quella della stanchezza del performer questa dimensione che solo chi osserva il teatro da vicino e al di fuori del tempo breve dello spettacolo fa esperienza riconosce quella dimensione lì della durata dell'azione durante le prove durante le costruzioni durante le improvvisazioni il tempo lungo 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 dello spettacolo che è quello a cui non assistono gli spettatori e che in un certo senso determina connota trasfigura proprio la presenza dell'attore e che un fotografo che è vicino agli attori che li vede da vicino proprio che li vede da vicino e li vede nella durata riconosce questo non so per me è un dato che mi piacerebbe mettere sul tavolo poi ognuno in base alla sua esperienza attribuisce a questa cosa un'idea un concetto ma veramente chi ha lavorato in scena questa cosa di quando l'energia non c'è più e attingi a un altro tipo di energia che ti fa andare avanti questa è una condizione molto specifica del performer che sono molto felice che si è uscito fuori e si è uscito fuori proprio parlando della dimensione invece visiva della restituzione in immagine della presenza avrei moltissime veramente moltissime considerazioni e molte domande questa costruzione di architettura scenografia e fotografia è un altro elemento su cui sarebbe veramente interessante il mio invito è continuiamo a parlarne creiamo altre situazioni in cui poi questi elementi non sono più soltanto degli elementi diciamo di relazione ma sono gli elementi di conversazione di dialogo penso che sia importante utile quindi io vi ringrazio molto mi taccio perché su ogni considerazione io poi mi allungo e appunto chi ha strappato tempo ad altre attività comincia a guardare l'orologio perché è l'ora di pranzo e quindi noi abbiamo deciso di invertire diciamo un po' il programma e di chiudere la mattinata non con il video e la relazione ma soltanto con il video su un pannello e rimandare al pomeriggio altre le altre attività nel pomeriggio ci possiamo allungare di più chi vorrà seguirci ci segue ma così garantiamo a tutti una pausa pranzo diciamo un pochino più riposante quindi io vi presento intanto molto molto rapidamente le curatrici che sono accanto a me e che adesso vedete tutte in questa inquadratura larga che sono Giordana Giordana Citti Francesca Pietrisanti e Simona Silvestri le presenterò meglio man mano che loro presenteranno le loro relazioni però visto che l'Atlante è veramente un progetto che io coordino ma che è il frutto della nostra ideazione collettiva del nostro lavoro collettivo lascio a Francesca invece il compito di introdurre il secondo video diciamo noi abbiamo pensato a questi video come alla condivisione dei processi di costruzione dei nostri pannelli come avete visto già nel primo video sono momenti in cui noi lavoriamo tutte insieme e quindi lascio a lei il compito di introdurre il secondo pannello buongiorno grazie a chi ha partecipato finora sì starò brevissima il video che vedremo ripercorre e documenta una seconda fase del lavoro che svolgiamo sull'Atlante della fotografia di danza che è la fase della costruzione di quelle che noi definiamo esplosioni e nel video sarà subito spiegato cosa intendiamo per questo e come si svolge questo lavoro quindi vedrete documentata la costruzione grafica e verranno anche raccontati i pannelli di quelle che definiamo esplosioni che sono dei tavoli di lavoro delle tavole di lavoro che tengono traccia di quello che succede nei pannelli che andiamo a creare e che stamattina Samantha ha spiegato in questo momento e hanno descritto il nostro lavoro sul tema delle tre grazie quindi vi lascio al video grazie definiamo come esplosioni sono una delle fasi del processo del progetto di fotografia e danza e sono una fase successiva a quella del pannello vero e proprio che abbiamo mostrato nel primo video questa fase prevede lo smontaggio di alcune immagini presenti nel pannello che sono selezionate così da mostrare dei legami specifici e circoscritti per approfondire dei nuclei tematici per farlo lavoriamo con un programma di editing grafico che ci permette di prelevare le immagini impostarle su un piano nero tagliarle spostarle e accostarle a dei testi i testi sono scelti come proposta bibliografica di un primo approccio al tema sono testi spesso tratti da monografie o testi di saggistica spesso appunto il rapporto con le immagini in senso cronologico o in senso proprio monografico e specificatamente tematico i testi sono in dialogo con le immagini per suggerire dei possibili approfondimenti al tema e degli approcci di studio da svolgere in un secondo momento le esplosioni sono così delle proposte ma anche delle immagini grafiche vere e proprie che entrano a far parte di un sistema di immagini più complesso che è quello delle immagini del pannello trasposto in digitale che spesso vanno a far parte poi del sito del sito internet di fotografia e danza e svolgono quindi una sintesi di un lavoro che talvolta è fatto prima in senso extra digitale come noi definiamo analogico le ricerche bibliografiche si svolgono spesso dai testi alle immagini quindi sono i testi che ci conducono a trovare alcune immagini fotografiche o alcune immagini appunto di iconografia sul tema oppure viceversa sono le immagini che durante una ricerca verticale che viene fatta ci conducono a dei testi dei testi con cui intrattengono una complicità che ci spinge a studiarne ad approfondirne il rapporto e in questo modo le tavole delle esplosioni vengono utilizzate come vere e proprie tavole di lavoro che mettono a confronto il piano bibliografico con quello iconografico in un rapporto che è sempre mutevole è sempre appunto di proposta e che può però in questo modo entrare a far parte proprio dell'approccio del metodo di studio di ricerca che cerchiamo di assumere per il nostro attrante di fotografia e danza la prima tavola sul tema delle tre grazie introduce innanzitutto l'aspetto macroscopico dell'argomento come abbiamo visto con la costruzione del pannello e il suo aspetto sicuramente sfaccettato e ramificato come soprattutto questo gruppo figurativo abbia attraversato le epoche e sia sopravvissuto come modello nella sua forma assumendo dei significati in alcuni momenti storici ben definiti differenti o assumendo dei valori di volta in volta nuovi valori che non sono solo estetici ma anche come abbiamo visto figurativi o filosofici o politici o sociali e quindi portandoci dall'antica Grecia fino al al novecento quando come modello diventa un modello in qualche senso generativo per la danza d'inizio secolo quando appunto le danzatrici prendevano questo gruppo scultorio figurativo come modello per le proprie danze un testo fondamentale per introdurci in questo argomento è stato sicuramente Misteri Pagani nel Rinascimento scritto da Edgar Finde alla fine degli anni cinquanta noto storico dell'arte della cerchia di Abbi Warburg che ripercorre le definizioni che ne sono state date delle grazie e che quindi ha in un certo senso aiutato a capire l'origine della diciamo la più antica descrizione che se ne dà delle grazie quindi conducendoci alla descrizione di Seneca nei De Beneficis e portandoci perciò nel 50-60 d.C. Seneca in questo volume spiega citandolo perché le grazie siano tre perché siano sorelle e perché si tengano allacciate per mano e per lui questa è un'immagine che doveva restituire diciamo l'immagine allegorica della circolazione del dono e quindi questo cerchio che non doveva mai essere scisso un cerchio armonico in cui il dono viene ricevuto viene accettato e viene restituito appunto creando questo flusso che non deve essere interrotto la seconda esplosione quindi l'abbiamo dedicata interamente a questa citazione fondamentale è molto interessante fra tutte le immagini osservare sempre nella seconda tavola quella in alto a destra che raffigura un mosaico risalente al secondo terzo secolo d'op.cristo ritrovato a Petras un mosaico che era anche un'enorme pavimentazione e che mostra come queste tre grazie non siano statiche ma siano realmente danzanti essendo un pavimento quindi induce anche a pensare che appunto deve essere un'immagine che non era solo un non rappresentava un modello figurativo per l'appunto statico ma doveva condurre una danza doveva in qualche senso avere in sé il potenziale cinestetico all'interno del pannello ci troviamo in epoca rinascimentale e soprattutto nel contesto della corte medicia protagonista tra gli altri di questo pannello è Marsilio Ficino filosofo umanista e astrologo tra i maggiori esponenti del neoplatonismo inserito attivamente nella corte medicia Marsilio Ficino scrisse tra 1480 e 1489 il Detrifici Vita tradotto in italiano sulla vita un'opera in tre volumi che trattano di medicina filosofia ed astrologia nel terzo libro il cui titolo in italiano è come ricevere vita dal cielo Marsilio Ficino dà una definizione di grazie le grazie diventano un tema centrale che ritornano ad essere un tema centrale all'interno della dottrina neoplatonica le tre grazie sono per Marsilio Ficino Giove Sole e Venere tra gli artisti presenti all'interno della corte medicia al primo posto troviamo sicuramente Sandro Botticelli all'interno del pannello è presente un frammento dell'opera La primavera di Sandro Botticelli il dipinto venne eseguito per la committenza di Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici cugino di Lorenzo il Magnifico all'interno del pannello è presente una fotografia di Clarence White da più importanti rappresentanti della fotografia pittorialista americana la fotografia ritrae nell'Hartzone Dancer ed è databile tra il 1923 e il 1924 anni in cui il fotografo instaura una duratura collaborazione con le danzatrici guidate da Bert Larson pioniera dell'insegnamento della danza nelle scuole americane e che diviene un punto di riferimento per lo stesso fotografo che attraverso di lei ha l'occasione di conoscere gli aspetti spirituali e rituali della danza altro protagonista importante della corrente neoplatonica all'interno della corte medicia è senza dubbio Giovanni Pico della Mirandola filosofo umanista di età rinascimentale molto vicino agli ambienti della corte medicia in particolare alla figura di Marsilio Ficino questa immagine era a figura due medaglie di bronzo opera di Niccolo Spinelli detto Niccolo Fiorentino databili tra il 1484 e il 1495 a sinistra troviamo il ritratto di Giovanni Pico della Mirandola e a destra ritorna il tema delle tre grazie tema molto importante all'interno di quella che è la dottrina neoplatonica perché le tre grazie vengono inserite in un contesto osterologico l'accostamento tra il ritratto di Giovanni di Pico della Mirandola e l'iconografia delle tre grazie sottolineano l'importanza della tematica delle grazie all'interno della dottrina neoplatonica nella corte medicia rispetto al rapporto tra parola e immagine interessante è stata l'opera in due volumi di Isabella Teotocchi Albizzi che commenta descrive tutte le opere del Canova in un'opera appunto in due volumi del 1821 in cui parla naturalmente delle grazie descrivendo il gruppo scultoreo ma anche arricchendo diciamo questa descrizione dei significati che a quel punto nel 1821 sono attribuiti a queste tre figure divine considerato che Canova ha poi realizzato una serie di danzatrici che per molti sono in qualche modo la prosecuzione del lavoro sulla corporità delle grazie addirittura Albizzi definisce una delle danzatrici una alunna una allieva delle grazie è stato importante vedere con quale linguaggio con quale universo culturale nei primi decenni dell'ottocento l'opera di Canova veniva interpretata descritta e restituita in qualche modo ai contemporanei non è stato possibile da una prima ricognizione sull'archivio digitale del museo dell'ermitage ritrovare il cammeo in cui è inciso questo toro è dall'ermitage che lo prende Jane Ellen Harrison quando lo usa per illustrare le pagine del suo Ancient Arts and Ritual del 1913 dove si legge un'interessantissima carrellata sul problema del rito di tirambico e della sua associazione alle canzoni di primavera e al rito di primavera come è noto in questo testo Harrison ricostruisce l'origine rituale sia del teatro che dell'arte visiva non solo perché teatro e arte avevano un tema sagro ma perché avevano una origine cerimoniale addirittura Harrison parla di preghiere scolpite nella pietra o agite nel caso del teatro allora in questa sua ricognizione dell'origine ritualistica delle arti sia visive che performative l'idea delle grazie è associata a questo rito di primavera a questo canto di primavera che sarebbe l'origine del rito di tirambico allora spero che questi due frammenti così brevi abbiano un po' reso l'idea soprattutto delle due modalità pratiche quella di diciamo che noi chiamiamo analogica nel senso che lavora sulla quantità di immagini cartacee e poi tutto l'aspetto più grafico che noi facciamo quando iniziamo a ristabilire un dialogo tra le fonti visive e quelle testuali quindi i riferimenti bibliografici che troviamo le citazioni l'accostamento tra dimensione visiva e lettura e proprio fisicamente il modo in cui usiamo i programmi di grafica per rimettere insieme questi frammenti sparsi della lettura delle immagini allora io chiuderei con questo contributo che ha un po' aperto lo scenario dei processi di costruzione dell'Atlante spostando come dicevo la relazione di Simona Silvestri cioè un'altra immagine staccata e studiata al pomeriggio alla sessione del pomeriggio e ringrazierei veramente di cuore i relatori e anche chi ci ha seguito visto insomma moltissime persone che ci hanno seguito per tutta la mattinata grazie molte ci prendiamo una pausa in cui ci scolleghiamo tutti e alle 15 riapriamo i lavori dopo pranzo buon pranzo a tutti e grazie ancora